Cari amici, benvenuti in una nuova puntata, aspetta che sono tutto storto, no, che figuri mi fate fa' Ciao ragazzi, ciao a tutti, benvenuti in una nuova puntata di Radio Tomodashi, buon venerdì a tutti Oggi con me ci sono un paio di ospiti che apparentemente non c'entrano una sega tra di loro Anzi, quando io ho annunciato la loro presenza qua, ah bellissimi, ma cosa cazzo ci incastano? Stupendo, capolavoro, vanno sulla fiducia Più sono lontani questi personaggi, più loro sono contenti Però in realtà questi personaggi condividono molto di più di quello che pensate I miei ospiti sono Matteo Corradini e Sabaku, Michele Poggi, ciao, ciao, ciao Michele Buonasera Ciao Matteo Buonasera, buonasera Allora, dovete sapere che ovviamente loro due sono appassionati Aspettate c'è lo sponsor qua che vado a togliere Sono appassionatissimi di videogiochi e soprattutto sono delle persone Matteo, per chi non lo conoscesse, autore, comico, autore comico, attore Tutto, content Attore non lo dì, non lo dì, attore Sei stato attore Attore non lo dì, cioè a me quando mi fanno, ogni tanto mi fanno, ma tu sei l'attore Non sono un attore! Ma perché non credi non saper recitare? Fai il tuo Ma no, cioè, scusa però, cioè l'attore è comunque il livello più basso No, dai! Ma sì, dai, cioè l'attore è la cosa meno figa Una cosa di poco conto Dai, ma sì Cos'è che ti piace di più? Autore mi piace Autore? Autore, in campo videoludico puoi dire narrative, narrative designer, mi garba Effettivamente sei un ottimo autore, comico Ti ringrazio Invece Michele lo conoscete penso tutti, grande collega, content creator Sì, vabbè, content creator raccoglie tutto in realtà quello che facciamo noi, no? All'incirca? Sì, sì O c'è di più, no? Non facciamo il No, è il pipozzo In realtà questo tema che affrontiamo oggi arriva proprio da Matteo Perché io volevo invitare Matteo alla puntata del single player versus multiplayer Esatto Poi ha detto ma perché si fa una puntata con te un po' diversa E abbiamo iniziato a sciolinare argomenti E te te ne sei venuto fuori con questa puntata sul Però un po' mi fa rosivare sta cosa che i videogiochi stiano diventati misti E' una cosa più nerd del mondo da dire Fa veramente schifo Sì, è un po' gatekeeper, no? Un pochino No, no, però effettivamente poi ho spiegato meglio Ti faccio un esempio In campo di sceneggiatura Vabbè, è uscita la serie Ma fino a due, tre anni fa Uno sceneggiatore doveva sapere che cos'è The Last of Us Cioè, doveva Ci sta Perché comunque lo devi sapere E, ops, scusate Non credo che molti sceneggiatori sappiano che cos'è The Last of Us No, 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 adesso sì Ora secondo me un po' di Vabbè, non gli sceneggiatori quelli qua Non quelli Cioè, i sceneggiatori di Milano Quelli sì Quelli lo sanno Con me che sotto braccio No, quelli lo sanno Però io non credo ci sia Cioè, siamo arrivati a un momento in cui I video game veramente sono uno dei principali media che la gente consuma Ok E io di questa cosa in realtà sono fortemente contento Ma sono contento per un motivo Questo ci dà la possibilità di Parlare Di andare a interessarci del sottobosco Però era frizzante Se dicevi a me fa schifo No, no, non si può dire Non si può dire Dai, non ha già È sbagliato È gatekeeping È gatekeeping Io mi ricordo un dialogo del genere Però I tripla fanno cagare No, regà, non è vero No, vabbè Allora, in realtà l'argomento mi interessa Perché secondo me c'è un punto di incontro sulla cosa Cioè, un po' mi sta sul cazzo E un po' no Cioè, io sono contenta se Zelda Sono contenta Sono contento se Zelda vende 10 milioni di copy Sì, decisamente In tre giorni Sono molto felice Perché io sono contento che la saga più amata Sottoscritto insieme a Dragon Quest Sia di massa Però allo stesso tempo Un po' mi sta sul cazzo Chi fa l'esperto di Zelda Non sa un cazzo della saga Vabbè, non è giocato solo uno E fa No, però Eh, Ocarina of Time Ma quanti anni hai? 15 Ma che cazzo ne sai L'ho recuperato sul 3DS Ma vabbè Vabbè, però questo è Questo è un caso molto triste Spero molto singolare Singolare non è Ma va Stiamo nel web 3.0 È singolare Eh, ok, no Allora no Tante persone Ti ricordo il termine di recensione su internet Cosa è diventato Certo, certo Ma il volume ragazzi è sempre quello di sempre Solo che Michele sussurra È un po' la voce un po' più bassa Ecco Pronto Ecco, di parlare un po' più nel microfono E ce la facciamo Vai Sì, però a parte gli scherzi Cioè, comunque Ho un'idea Ma vai, vai C'era un momento C'è stato un momento in cui Lo guardi La gente Non è Cioè, non è che tu potevi andare in giro a una ragazza Gli potevi dire Sai, io gioco ai videogame Adesso lo puoi fare Che schifo Io non sono d'accordo No, non è vero Ma guarda che non è vero Comunque, cioè Come si dice Perché che schifo Alcuni La gente ci scopa con i videogame Veramente Cioè, io ho assistito scene Di persone che Facciano i fighi Giustamente fanno benissimo Hanno tutta la mia approvazione Parlando Allora Che facevano Flexavano Undertale Tipo con le ragazze Capito Flexare Allora Fermi È una roba nuova Facciamo i nerd o no Come? Vuoi fare il nerd o no? Vai, vai, vai Flexare Undertale È come avere l'accanto Tumblr Ok? Vabbè Ma che vuoi dire? Che non flexi Undertale Perché sei skillato Con i videogiochi Ma perché Hai quella sensibilità Ad art Che hai trovato La chicca Che ha cambiato per sempre Però se sei invece L'hardcore gamer E dici Un controller a 16 tasti Io li uso contemporaneamente Con grande skillset Eh ma quello è Abilità È avere più dita Quelli Cioè non è Non è necessariamente Cioè Personalmente Però Anche la roba Di avere una sensibilità È una cosa relativamente nuova Troveremo la quadra del microfono Sì Prima o poi La roba di Undertale È una cosa relativamente nuova Quindi io La provo È figo È bello Dipende come lo flexi Se lo flexi come gli esperti di Zelda No Vabbè Quello no Perché scusami Come quelli che si atteggiano a Ah Perché è cosa buona e giusta Essere esperti di Zelda Anzi lo consiglio a tutti Però A me quello sta un po' sul cazzo Cioè la classica posa No ormai È un po' come le serie tv Prima li guardavamo in 10 Adesso le guardano tutti E un po' C'è questo Bisogno di ostentare la cultura Prima si chiamavano telefilm Ti ricordi? Telefilm Sì 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 Le fiction Eh sì sì E invece poi è andata tutta puttana Ecco Io voglio sapere se c'è un Dimmi un po' Dimmi un po' la tua Michele Che volevi dire Cioè Per te questa roba ti sta un po' sul cazzo Per esempio Te sei il portabandiera Di uno dei brand Che rappresenta in toto il concetto Cioè I Souls Che prima erano prodotto Di stranicchia E che improvvisamente Con il passaparola Con la voglia di Dire a tutti Ragazzi In realtà questi giochi Spaccano il culo È diventato un prodotto Di consumo Di massa Te cosa ne pensi? Questo è stato un bene È stato un male per il tuo brand Per il brand che ami di più Allora Eccoci Qua saremo un po' prolissi Va bene Va bene Abbiamo tempo No Una delle cose più incredibilmente interessanti Dell'essere umano Nelle relazioni È che ti circondi di persone Tendenzialmente Del tuo Diciamo Livello e conoscenza Empatia E carattere Sempre così A volte neanche te ne accorgi E Tendenzialmente Io negli anni Non mi sono mai reso conto Di quanto di nicchia fosse Quel franchise Perché nicchia Tra l'altro È un termine incredibilmente Frainteso A volte C'è chi dice Ma Dark Souls Non è di nicchia Ha venduto X milioni di copie Certo Non importa Ormai il milione di copie Nel mercato videoludico Che include A livello monetario Musica e cinema Insieme Che è Astronomico Sì sì È Veramente di Poco interesse Nei grandi numeri Di quello che si definisce Come nicchia o meno E poi la nicchia è soprattutto Mentale Nel senso Le esclusive Su console Tendono a essere A loro modo una nicchia Rispetto a un FIFA Rispetto al franchise Di Call of Duty È pazzesco a dirsi Ma è così Sono a modo loro Nicchia Magari Non The Last of Us Sono grandi nicchie Sono grandi nicchie Nisce Ecco Il fatto è che poi Mi sono reso conto Di quanto mi trovassi All'interno Di un sistema di nicchia Quando Bloodborne Fu inserito nel Playstation Plus Cioè Perché Ah ok Ti credo Nel momento nel quale Qualcosa viene reso gratuito C'è una quantità Di centinaia di migliaia di persone Che scarica talmente velocemente Qualcosa Anche solo per provarla Che il social networking In generale Qualunque piattaforma Se ne riversa Di commenti Pieno Straborda E lì Vedi un sottobosco Incredibile Cioè Cos'è la cosa Che ti ha più colpito Quello che mi ha più colpito È la quantità Innumerabile Se ci fosse Se ci fosse L'internet archive Vai a vedere I commenti Di persone Che hanno sfiorato L'esperienza Ma voi vi ricordate I tweet All'uscita di Sekiro Sì C'erano delle raccolte Di tweet All'uscita di Sekiro Di gente che diceva Ah questo nuovo gioco Dicono tutti è difficile Ma io sono mega forte Ma che me frega E poi Poi tra l'altro Sekiro Cioè tipo Primo titolo From software Sekiro Cioè è veramente La peggio cosa Che puoi fare Proprio C'è parametria Io ho iniziato con Bloodborne Che comunque È okish Cominci con Sekiro Ti vuoi molto male Per me i Souls Sono ancora Dannosissimi Cioè mi fanno Proprio male Alla testa Invece Bloodborne Sekiro E Elder Ring Mi sono venuti Elder Ring Non so come ho fatto A rompere la run Con l'ardo L'ho distrutto Ma sì Ma Elder Ring È tutto rotto Non solo Ma poi Vabbè Era Secondo me Esplorando tutto Giocandolo come uno Zelda Per The Wild Lo distruggi Certo Perché ti danno addosso Qualsiasi cosa Perché il gioco Ti prima tantissimo E Sekiro invece L'ho apprezzato Perché mi piaceva Il concetto di Guitariro con le spade Certo Ecco però Vi faccio una domanda Quando ti hai visto Questo fenomeno E quando ti hai visto Il fenomeno dei tweet E te Hai fatto un po' Beh io lo sapevo Prima di voi Che era così Ragazzi Cioè io ci gioco Da dieci anni A quindici anni Lo so benissimo Ma funziona Quando avete visto La gente giocarci Anche male E a vivere Quelle esperienze Di gioco Alla Souls Dove la trama È tutta frammentata La devi ricomporre te E loro non capivano Una sega E si lamentavano Non ti veniva Da spaccare lo schermo Di non si gioca così Si gioca così Coglioni Non ti è mai venuto Voglia di Un po' Fare maestrino Ma con Con garbo però Con rispetto Nei confronti di tutti Eh assolutamente Però Io sono sempre Stato un maestrino Sempre Ma in realtà Quello che tu hai descritto Dipende dalla forma mentis Perché i Souls Sono cominciati così Anche nella nicchia Una delle cose Che più han creato magia All'interno della community Erano i primi giorni Della release Di un Souls Quando era di nicchia Perché esisteva La wiki Vuota E la chat Della wiki Era piena Di appassionati Che dicevano Ma questo Ma questo Ma questo Ma quell'altro Ed era un continuo Intersecare idee Scoperte Di quello che era Un universo Che si stava completando Si stava ampliando Si stava inspessendo Infatti Una cosa che mi piace Sempre dire È che va in autodistruzione Istantanea Nel momento nel quale Arriva la massa Che è il lato negativo È come la massa Sia legata fortemente Al marketing Di un prodotto E non a quello Che l'autore voleva In qualche modo comunicare Ci sono due enormi Misconception Due enormi Fraintendimenti Dei Souls Il primo È che Bandai Ha Nella meraviglia Che ha prodotto Ucciso Lo spirito Di Miyazaki Perché l'autore Non ha mai detto A questi Che giocano I miei Souls Hanno il cazzo enorme Perché la difficoltà Non è mai stata Un obiettivo del software Mai Mentre Bandai Namco Aveva la Prepare to die edition Dark Souls 2 Go beyond death Benvenuto in Dark Souls Quella roba lì Non fa parte di From Software Neanche con il cannocchiale E lo stesso vale Per il concetto di Coop Cioè Il cuore Dei Souls È aiutarsi a vicenda Poi io Non lo faccio mai Perché mi piace Guardare anche il design Di una boss fight Intesa come moveset Come intelligenza artificiale Come path finding Delle creature Tutto Però il gioco è Mettere il segno a terra Aiutarsi nelle intemperie Nell'imprevisto Certo Quando Arriva la massa E l'internet Si riempie soltanto di Cazzo Sta merda Impossibile E' ovvio Che dai una comunicazione Incredibilmente distorta A qualcuno Che magari poi Neanche ci si approccia Per timore Di un eco Che in realtà È sbagliato E quello è il lato negativo Ti sta sul cazzo Il marketing Sì A me Vederli giocare male È bellissimo Perché se lo fai Con un po' di pazienza Poi smetteranno Di giocare male Cioè no È vero Verissimo Come quei bambini Ma è bello È bellissimo Io ho giocato Sì sì Ma infatti Ma non è che perché Sono intellettivamente inferiori Sono bambini Perché stanno scoprendo qualcosa E nel mercato Non c'era prima E non c'era prima Perché abbiamo vissuto La settima generazione La settima generazione Dei videogiochi È un'epoca buia Molto buia Molto molto buia E Il problema È semplicemente Il modo in cui Lo si approccia Perché io Demon's Souls È uscito nel 2008 Io l'ho giocato nel 2009 Perché stavo per importarlo Ma ho resistito È uscito la Black Phantom Edition Io l'ho giocato Senza neanche sapere Che c'erano le descrizioni L'ho finito Senza sapere che ci fossero Le descrizioni Senza sapere che ci fossero I backstab Io non sapevo niente Di Demon's Souls L'ho giocato come Certo senza backstab È un po' Tostino È stata la mia mossa Preferita di Dark Più che il pen Perché lì From Software Aveva deciso Di scrivere il menu Con i geroglifici È il sangue Quindi in maniera Incomprensibile Quasi come il Team Ninja Però Allo stesso tempo Con la pazienza Poi scopri Magari a endgame Ah ma c'è questa cosa E lo giochi In maniera completamente diversa Quindi anch'io Ho giocato male Beh non è male Sì Diamo a cercare Qualche di Cesare Anche colpa di From Software E della mancanza di tutorial Tanto che è stata Activision A forzarli A mettere un tutorial In Sekiro E poi Activision Ha probabilmente Stroncato il DLC Di Tomori Se ne parlava prima E questo è Un capitolo nero Del video publishing Che è stato tradotto In asset E riutilizzato In Malennia Però Ok Eh sì si nota È un pelo Si nota abbastanza È un po' Un pesce fuor d'acqua Malennia Ma io vorrei capire Ancora invece Da dove arriva Il demone della forgia Di Sekiro Quello invece devo Sì No mi si ama No il demone della forgia Il demone della forgia È quello che ti ha fatto incazzare Esatto Aspetta un secondo Il demone dell'odio Il demone dell'odio Da Bloodborne Sì sicuro Volevano fare un qualcosa È chiaramente Da Bloodborne Ho detto Senti Sto asset Che c'è famo Secondo me Tanto c'è l'ombrello Tra l'altro ho visto un flashback Da Vietnam Quando ho detto Demone della forgia Ti sei rigidito così Bellissimo Ci sta È un momento cupo Sì A te Matteo Questa roba Piace o non piace? Guarda io In realtà Sono convinto che se un mondo si espande ci sarà sempre più spazio per trovare cose nuove e cose più difficili da individuare e da giocare Più si espande un mondo più ci sarà spazio per le nuove uscite per le uscite indie e per le uscite non sotto i riflettori Quindi fino adesso non abbiamo Tra virgolette Fino a che ne so La grande esplosione dell'indie è stata Boh non mi ricordo Scusate se dico cazzate Facciamo 2008 Con i primissimi giochi indie che sono esplosi Braid Eccetera eccetera Mi ricordo Limbo Limbo Braid Eccetera eccetera Fino a quel momento questo fenomeno non c'era perché il media si stava affermando ancora Adesso che si è affermato c'è spazio per tanta tanta roba che non è roba mainstream E di questo dobbiamo ringraziare i miliardi di dollari che annualmente questa industria incassa Perché sta consentendo a persone di fare giochi che non necessariamente sono puntati a stravendere miliardi di copie E questa secondo me è una cosa buona Quello è anche la semplificazione dei sistemi di sviluppo E di poter in qualche modo avere accesso a certi strumenti di publishing Però si sono semplificati perché è un media che è diventato estremamente famoso Se fosse rimasto Lo stesso vale per il montaggio video Qualunque cosa Assolutamente sì Se non ci avessero fatto così tanti soldi loro non avrebbero detto Creiamo un motore di sviluppo semplice da usare Così le persone lo usano e ci fanno i soldi con meno tempo che gli altri Questa è una cosa buona regà No no è una cosa buona E per me che sono molto romantico da questo punto di vista È buona anche dal punto di vista della scoperta Perché se io adesso voglio scoprire qualcosa che non ho mai visto prima E su cui il pubblico non si esprime E ora voglio aprire una parentesi con voi su questo Lo trovo nel mercato indie Perché trovo dei titoli tipo The Messenger In genere mi ricordo Che cavolavoro Prima che tutti ne parlassero Io l'ho giocato Ho detto cazzo questa è una cosa Che per una volta rimane mia e di pochi altri E poi dopo è scoppiato Axion Verge E tanti altri Oppure quando riesco Tartle 2 è mezzo brutto Sai di Axion Verge Ma io l'ho trovato un More of the Same Ma è simpatico Ah More of the Same proprio Io l'ho trovato un po' meno del The Same C'è sta Guacamelee anche quando lo scopri Ero contentissimo Però lì rosicavo E qui forse entra in gioco anche il mio lavoro Quando beccavo tutte le citazioni di Guacamelee Che ce ne sono centomila Ho detto Ma perché non l'ho fatto su Twitch E io le volevo di Cioè questo è un po' una rosicata Certo Ecco questo è il lato positivo Della community e del mainstream Che un gioco lo scopri insieme anche agli altri C'è il lato negativo Vai dimmi un po' Il lato negativo è un altro macro argomento Il lato negativo è che Benvenuti nella seconda parte Eh ma è roba Ha del bello anche questo Perché ha concesso a delle produzioni Parlando proprio di production value Di livelli astronomici Parlavamo prima di cifre astronomiche Anche la production value diventa astronomica In certi AAA Che sfondano quasi il quadro Però Il lato negativo c'è Più soldi Più rischio Più rischio Meno coraggio E quindi si viene a creare Un'omologazione del AAA Eh vabbè Si viene a generare Eh vabbè Eh vabbè Però alla fine Il vecchio AAA Perché i gamer Quelli con la G maiuscola Che a volte si confondono E si guardano allo specchio E non lo sei Dicono L'epoca d'oro Perché nell'epoca d'oro Facevi il videogioco Iperbole Anche questa astronomica Ma farei il videogioco Nel garage E rischiavi Uno schiaffo sulle mani Eh si Ma poi Non è neanche probabilmente vero Perché ai tempi miei Negli anni 90 Era tutto un platform Cioè il platform Era La Ubisoft Dell'epoca Quindi non è Propriamente I feromini ci sono sempre stati Pensa Crash Clonoa Cioè avevano comunque Delle lingue Degli idiomi diversi Che cercavano Ognuno di prendere Il meglio Di quello che ha fatto più soldi Che ricordi eh Passato tanto Con Noah Esatto Però Che poi Matteo non sembra Ma insomma C'ha più anni di me Sono quasi 38 Ti hai vissuto anche Le primissime generazioni Videoludiche Io ho comprato Il Siga Master System Quando la pubblicità La faceva Jerry Galà Mio padre Mio padre Assoluto Sì sì Comunque il primo gioco Nella mia vita In cui ho giocato È stato Alex Kid Built in Nella scheda madre Del Un gioco Un punitivo Vergognoso Voglio dire una cosa Su Jerry Galà Ed è È l'eredità dei coin op Certo certo Spendi le 500 lire Certo Io vi devo dire una cosa Su Jerry Galà Dovete sapere Che l'anime Di Sonic È stato Coprodotto Da Fininvest Oh Sai che mezzo Mi ricordavo sta cosa È stato coprodotto Da Fininvest E io sono convinto Al 100% Che sia per via Del successo Delle pubblicità Di Sega In Italia Per via Di mio amico Jerry Personaggio notoriamente Vicino a Fininvest No Sì sì Torna tutto Quanto è bella questa cosa Sonic No Sonic Berlusconiano Forse è un po' troppo Era pure bello Era pure bello L'anime L'anime di Sonic Era carino Era un cartoon Più che Era un cartoon Non anime Sì esatto L'anime di Sonic Ho sbagliato Comunque è così Tu pensa Parliamo di un lato negativo Della massificazione Vai Uno che però è Molto più semplice Concretizzare In una descrizione specifica E non nel Sì un po' Adesso rischiano meno Perché le cose si assomigliano In certi Insomma insiemi di genere God of War Ragnarok Ah sì Eh vabbè Lì è proprio Zero rischi proprio Non sto parlando di questo Perché lì possiamo Opinare Discutere Fare discussioni Sto parlando di un dettaglio Specificissimo Che è Oserei dire Inconfutabilmente Poi in realtà Uno potrebbe dire Non è detto Sì però La manina sul fuoco La metterei Almeno per un po' La quantità Morbosa Di assist Avocali No quella roba lì Sì E lo vorrei morire Ma lì È Cioè se tu che stai Guardare il dettaglio Nella texture Vedi quanto è fatto bene Sta roccia Ehi dobbiamo andare di là Ancora Papà dobbiamo salire Sulla roccia Sì devi girare Questa cosa Di 40 gradi A destra Ho capito Sì lo so Se te blocchi il meccanismo Con il ghiaccio E poi ti Lo so Lo so Sto cercando una cesta È come se il coroc Di Eccomi Allora devi fare un carretto Mettili con quell'oggetto Se non lo fai No Così Link Non hai sbagliato È così Però è così Terribile Perché in quel design Che cerca anche Quanta più Non soltanto la massificazione Ma vuole che il giocatore Non provi mai Frustrazione Perché la frustrazione Vuol dire Per un casual Droppare Lasciare stare Se lo droppi Hai fallito come sviluppatore Nell'idea Dell'intrattenimento Massificato Cinematografico Quindi Devi aiutare Sempre Lì l'errore È stato non mettere un'opzione Di togliere Perché Però quella è una conseguenza Direttore Sì ma funzionerebbe Un'opzione togli suggerimenti Sì Ah se no intendi Sì Ma sulla massa no 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 Sulla massa no Ma neanche andrebbero Nell'opzione Cioè Banalmente Neanche andrebbero In quella particolare sezione Delle opzioni Cioè tu pensa adesso Sicuramente Io ho cercato Su Ragnar Guarda che In chat sicuramente La gente comincerà a urlare Adesso Poter abbassare per esempio La quantità di Bunter Di Dragon's Dogma È importante Nel senso Quelli non fanno altro Che parlare continuamente Di dire sempre le stesse Battute Quindi a un certo punto Dici Magari basta Cioè le opzioni In certe cose Sono state una conseguenza Della mancanza Di una direzione Nelle console Quindi hanno aggiunto Opzioni grafiche Anche abbastanza complesse Per quello che era Invece l'obiettivo Metto il disco Non ci penso più Per l'ottimizzazione E quello È un altro argomento Ma opzioni di Quality of life E Assist Per qualunque tipo Di handicap Eccetera Quello è sacrosanto Ed è un bellissimo Traguardo raggiunto Li si sono dimenticati Però quella È una causa Della massificazione Per certo Ma quindi Io non riesco a capire Se questa massificazione Per voi È buona o meno E se C'è una massificazione Buona Effettivamente Che deve arrivare Magari con una prossima Rivoluzione videoludica Cioè cosa ne pensate? Io continuo a sostenere Io continuo a sostenere Che la massificazione È buona Perché crea uno spazio Non massificato Ah Di conseguenza Esattamente Esattamente Io Cioè Infatti appunto Il Io sto facendo Questo video podcast Si chiama Ingiocabile È un progetto Totalmente Indie Fatto proprio Per Perché ci piace Con Con Giovanni Mazzoli Di Brescia Che saluto Che sicuramente Ci segue da casa No però è questo Capito? È la creazione Di uno spazio Che non fa parte Dello spazio massificato Proprio di conseguenza Di quella cosa Perché tanto ragazzi Cioè come diceva pure Michele prima Con L'avanzare Della qualità Dei mezzi Di Di produzione Con la velocità Di utilizzo Di mezzi di produzione Quel mondo Che non è quello massificato C'ha una vita Incredibile E io soffro tantissimo Cioè soffro Tra virgolette Ne soffro così tanto Da aver parlato Un'ora e venti Di speedrun Che non è soffrire tanto Però comunque Però c'è quel mondo Che secondo me Bisogna Io non credo sia giusto Che Non so quante persone Ci sono in chat adesso Io credo che tutti Dovrebbero sapere Che cosa è inscription Ah sì Sono d'accordo Lo dovrebbero sapere E inscription Secondo me È importante Vogliamo dire una cazzata Come tears of the kingdom Dal mio punto di vista Uno Da un punto di vista Tu stai a soffrire Questa mia È un po' forte No 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 Però Secondo me A livello di importanza È molto importante Vedere come si muovono Alcune cose nel mondo Che non è mainstream È mega importante Secondo me Allora Se mi dici È super importante È una cosa Esatto A questo il paragone Non sto dicendo Non sto dicendo Il clamore Intorno a un gioco Del genere È importante Capito Se tu Se ti interessa Veramente Se tra virgolette Lo studi Se ci vuoi lavorare Se vuoi fare qualcosa Lo devi sapere Lo devi sapere Cioè capito Ed è super importante Solo che Giustamente Zelda Tear of the kingdom C'ha una copertura Mediatica Di un certo tipo Perché io non l'ho ancora giocato Ma se La metà De Però la copertura mediatica È brand Sì sì È curriculum È ok È ok Però L'inscription Non può averla per definizione Al di là della fama Dell'autore Sì e no Però non è che all'autore D'inscription Non gli piace guadagnare i soldi Gli piace guadagnare i soldi Però L'autore È una scelta Intendo dire Si parla Nonostante il valore Dell'autore Della sua voglia Di fare i soldi Certo Non può avere La comunicazione di Chi non potrà avere La comunicazione di GTA 6 Certo E quello è il Ma se Forse Esatto Crea la distinzione Nicchia Massa Quindi indie Non indie Anche se ormai l'indie È da valutare Perché anche l'indie Tanto Sono delle iniezioni Il problema Stray Il problema Stray Eh sì Madonna mia Due premi Va bene Due Dai che bello Stray Mamma mia Non te sta bene niente È bello Stray Il gattino Esatto Mone esce pure uno per Switch L'hai visto? No È che pazzesco i gattini A me metti in gattino Gioca qualunque cosa Quest'anno Sarebbe successo sicuramente Ah sì sicuro Tanto era candidato E BAFTA insieme A Vampire Survivor Stray E vinto Vampire Survivor Giusto Giustissimo Ma c'era dell'acqua Scusami È già finita? L'ho già finita Mi sa che Era l'ultima bottiglia Ahiai Dovrò bere L'acqua di Sabaku C'è la birra però No L'acqua Grazie mille Forse c'è da qualche parte Dovrei cercarla Diciamo che scoprire Farsi scoprire Ed essere visti Nella libertà assoluta Del sottobosco È veramente difficile Allora ti faccio questo esempio Prima io ho citato un gioco Che si chiama Fear and Hunger È un gioco del 2018 Diciamo fino a Metà 2022 Nessuno lo ha Penso Pochissime persone hanno Aperto la pagina di Steam E poi Metà 2022 Content Creator Hanno cominciato A parlarne E È molto fico È veramente fico Scusami Devo ruttare No 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 È A parte gli scherzi È Un gioco che Nelle atmosfere In tantissime cose Riprende Tantissimo I Souls Io Io te lo consiglio Tu veramente Ci dovresti giocare Ed è Un gioco che Anche Essendo una perla Perché secondo me È Estremamente importante Nell'ambito indie È rimasto Raga Nell'anonimato Tre anni E passa Ma nell'anonimato Cioè veramente Copie vendute Cento In tre anni E È assurdo È una cosa assurda Allora la domanda è Questa è una cosa buona O una cosa cattiva Cattiva Perché Perché non puoi permettere Al tuo pubblico Di prendersi il suo tempo Per arrivare Al tuo prodotto Perché non mangi Non lo fai più Lo so È perfettamente ragione Però ti assicuro Che il tipo Cioè se tu giochi al gioco Io sono sicuro Che il tipo Era completamente Conscio di questo rischio Basta essere intelligenti Oddio Magari Magari Spacciava Dice sai Io Spacciando Faccio un sacco di soldi Posso permettermi Di fare questo Side hustle Del gioco indie Non lo sai Sì ma Non importa Non importa Quanto sia benestante Sempre 100 copie vendute Sì sì Però magari Non è che Quei 100 che l'hanno trovato Sono più fighi Perché sono pochi No Certo È quello il fatto Però Il pubblico Si è preso il tempo Di scoprire la sua opera Piano piano Sì ma non grazie a se stesso E non grazie a degli strumenti Utili dal publisher O comunque dal ragazzo Che l'ha creato Per farsi scoprire Grazie a delle voci Che hanno girato In seguito ad alcuni Che avevano individuato Per primi il gioco È una cosa naturale Io penso sia una cosa naturale Hai capito Sì Ma è una bella storia Alcuni non arrivano a quello No è vero È vero Vabbè ci sta È un rischio Scusa parlavi di rischio Questo è un rischio Loro se lo prendono E se rimangono inculati Rimangono inculati È triste Ma è così Ok però non è una cosa bella Beh è bella Perché è naturale È una cosa romantica Eh vabbè È certo Ho capito Non sia Non posso definire con chiarezza Cosa è giusto e sbagliato Almeno non in questa sede Diciamo No ma in realtà È un argomento Che si va ad aprire Su qualunque Sì Media Anche YouTube Twitch Content creating C'è qualcosa di incredibilmente bello Come gli autori letterari Che sono stati scoperti Dopo la loro morte Esattamente Sono esplosi Certo Però chi siamo noi per dire Giusto o sbagliato Diciamo No ma si parlava di mercato Sì 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 Diciamo che È una cosa romantica Sì Questa è la cosa giusta Però noi siamo romantici Mega romantico Sempre Anche mio padre Van Gogh Sì vabbè Van Gogh è quello più popolare Ora si ritorna qui La massa L'arte Queste robe qua Ecco Secondo voi Qual è una tecnica Per poter Far conoscere Giochi del genere Anche a persone Che non lo conoscono Oh Cioè perché ci sono No per esempio Appunto PlayStation Plus Oppure abbiamo Il pass di Microsoft Che ti permette Di dare Ti dà tantissima scelta Qui poi possiamo polemizzare Ma tutta questa scelta Poi effettivamente Funziona o no O è indeterrente Perché di fronte a tutto Quello che hai davanti Non sai cosa scegliere È il pacchetto Di giochi masterizzati Quando hai 10 anni Il Mame 32 Il Mame 32 Però Non so se Sul pacchetto Di PlayStation Plus Ci sta Ma sul Game Pass Ci sta C'è Strisso Of Rage 4 Lega Quindi Quindi sì I soldi ben spesi Quindi sì esatto C'è sta Carrion Per D Carrion Boi È capito Cioè È È Non è una bella cosa Dai sì Secondo me sì C'è anche altro Perché Questi sono i primi due Che mi ricordano Ai tempi della PS1 C'era per esempio Il disco demo Che ti permetteva Di scoprire robe Mi ricordo In un disco demo C'era Cool Award Che non era proprio l'IP Quella potentissima Del grande marchio Una roba del genere Come può funzionare Al giorno d'oggi Che tecniche ci sono A parte il content Creator che magari fa un video Su YouTube Una live Gli scoppia il gioco Gli scoppia il gioco in mano È successo anche con PewDiePie Più volte E tutto Sì Quali sono le tecniche Che secondo voi Io Google Guarda Per motivi Quasi professionali Perché comunque Io Essendo una persona Che lavora Con i racconti Che siano Televisivi Cinematografici O videoludici Io Una volta all'anno E qui Il coraggio Il problema è che è una cosa Molto lenta Per essere sicuro Di non essere deluso Devi seguire un percorso Di diversi articoli Video E tanto tempo Devi acculturarti Devi acculturarti Del lavoro di qualcuno Che ritieni acculturato E che si mantiene come tale Quindi un sacco di tempo Invisito Che non farà mai nessuno Che non sia già appassionato O che si stia appassionando Io il mio Youtuber Di riferimento Per questa cosa È Super Highpatchwolf Ok certo Sì sì Lui ogni Perché ridi No te fa schifo No Dimmi Dì Lo conosci Che c'è Che c'hai A me è Super Highpatchwolf A ridere Perché Ah fari del nome No lo conosco È bravissimo Ok È dolcissimo Come ragazzo Ma ogni video Che comincia Ogni video che fa Qualunque No È che ogni argomento Di cui parla Dice sempre Che lo ha aiutato A superare Un brutto E fa troppo ridere Perché sono otto anni Che ogni video che fa Perché sta cosa Mi ha aiutato Però Ecco Di lui mi fido molto È un capo E' frusciante Che dice Sì sì L'ho visto a 15 anni Arrivando a ero piccino Al cinema Tutti Tutti i film Ed esistente L'ha visto Prego Lui ma Veramente Mi fido molto De lui È È molto emotivo Cioè non è esattamente Un critico Lui No però Parla di quello Che gli piace un sacco E lo fa con enorme Affetto Eh però Cioè per me funziona Mi ritrovo Mi sono ritrovato Molto spesso Non ho mai Un patatone Mi sono ritrovato Molto spesso In quello che dice E 8 su 10 Dei consigli Che dà Mi piacciono Pure a me È anche vero Che a livello Proprio di orientamento Di gusti Io sono Veramente molto Allineato con lui E quindi so Che quello Che lui suggerisce In genere Piace pure a me Shout out E di gente brava C'è Mark Brown Super Bunnyhop Che si è un po' perso Però è sempre Anche a ritroso Un ottimissimo No non lo conosco Me lo segna Se ne segna Sono bravi ragazzi Bravi 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 Però in generale Sempre di content creator Stiamo parlando Quello che potrebbe funzionare Visto che Globalmente La prima barriera Ad entrata in qualcosa È il dire Non ci spendo un cent Bello il cent Il cent Perché è il click È come L'iscrizione a un canale Devo spostare il mouse C'è qualcosa che È un investimento mentale Che distinto non faresti È il ritorno A oggi Super agevolato Delle demo Su tutto Una sorta di istituzione Che al game pass Comunque ti fa fare Ah te vorresti Un archivio di demo Sì Bellissimo Ogni cosa Ogni cosa E secondo te Ce la faranno Le software No Perché per due ragioni Se vuoi fare una demo Sì Non ti basta Far un lavoro Di Ti do Un livello Il primo O ti do 20 minuti Di prova Serve Un minimo di design Di cosa far provare Del titolo Sì Quindi è lavoro Investimento Non succederà mai Selezionare quella porzione Fagli vedere quello Perché non puoi fare una demo Perché è come un trailer Sgami qualcosa No più che altro Cioè se il gioco comincia Con un'ora di tutorial Non è che tu ti puoi giocare Nella demo Un'ora di tutorial Ti gioca un boss Ti gioca un livello Un boss Una roba Vi dico una cosa gigantesca Faccio Squoto il mondo Vai I trailer videoludici Sono un errore Nel senso Io li adoro Sono un appassionato da morire Vivo Come li montano Adoro Adoro Io li adoro Non devono mai scomparire Eh lì la chicca È lì il mio punto Dici che ti spoilano troppo? No 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 È qualcosa di molto più viscerale Rispetto ai due media Ossia Il film Nel trailer È il suo punto di riferimento Il videogioco no È l'interazione Il punto di riferimento Certo Quindi il trailer di un gioco Una demo Non è un trailer Questo è E il trailer è montato Musicato Preparato Come se fosse un film E scritto Il trailer è un'opera a sé Ragazzi credetemi I trailer dei film Sono un'opera a sé Lo sono anche quello dei videogiochi Perché sono trailer di film Esatto Io ora Che finalmente è aperto a questo argomento Posso dire tranquillamente Dopo anni Il trailer Di Star Wars 7 È meglio del film Assolutamente sì Ma molti trailer Sono meglio dei film Allora Assolutamente sì Quindi Quello che dovrebbero fare Ho detto sono tranquillo No ma è giusto Ma è sacro Ma è vero Quello che dovrebbero fare È delle demo Curate come i trailer dei film Cioè Una delle cose migliori Che abbia mai fatto Idioko Jima Sono i trailer Di Metal Gear Solid 2 e 3 Cioè Perché quelli sono trailer Di 10 minuti Di gioco Montati per far vedere Il gioco Comunque Cadono in questo problema Perché il gioco è videogioco Interazione E questa cosa È una delle cose Sulle quali mi soffermo Sempre sempre Più spesso E cioè Cercare di far capire A livello Appunto Io mi soffermo sul racconto No Sulla narrazione Su come vengono raccontate Determinate cose E faccio sempre Tantissima fatica A far capire Che il modo Che ha Di raccontare Il videogioco Sicuramente Coglie Dal cinema Tutto quello che vuoi C'ha tantissimi punti in comune Con il mondo cinematografico Ma il gioco Deve raccontare Principalmente Attraverso il gameplay Cioè Non esiste Un gioco Che racconta Solo attraverso Le cinematics O Amenità simili No dai Non ha senso Come? Telltale Games Ah Hai ragione Però Quello è fatto Appositamente Quello Capito Però anche Miste Però anche Beh no Miste c'è tutto il valore Della ricerca Della scoperta Esatto E hai Telltale Ha il valore Del costringerti A dei countdown Oppure Ha il valore Un po' più forzato Rispetto A Miste Lo so Esatto Cioè lì sono binari E scegli dove andare Esatto E tipo i giochi quelli Che si facciano Il cortello e comando E Miste Comunque hai beccato Proprio La mosca bianca No questa cosa che ho detto Io ci credo veramente Nel senso Sacro santo Bisogna veramente tantissimo Cominciare a inculcare Nelle persone L'idea che il videogioco Non è il cinema Non deve stare Agli stessi Non deve utilizzare Gli stessi modi Di narrazione Può farlo Può farlo Ma non deve essere Quello centrale Bisogna comunicare Attraverso il gameplay Dark Soul Funziona perché Quando tu C'hai un'unghia di vita E stai per perdere Un'ora e mezza Di gioco E riesci a spaccare L'ultimo mostro Hai la sensazione Di essere in un mondo Respingente Nero L'ultimo mostro Non lo sentivo Veramente Da quando facevo Elementari Medi Stava per finire il quadro Il quadro E sconfice L'ultimo mostro Che bello L'ultimo mostro Prima del prossimo falò Quando tu ammazzi Quel mostro di merda Ti senti veramente Nell'orribile mondo Di Dark Soul Ma non è solo quello È anche la possibilità Di avere il controllo Di una telecamera Che ti mostri qualcosa Che la cutscene Non ti fa vedere Anche sì La padronanza Dello scenario Certo sì 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 Quella è la cosa più bella Io sono d'accordo Non mi prendi in giro Per la mia terminologia Boomer No 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 Mi piace Mi piace Bellissimo Mi fai fare un grande L'ultimo quadro Entrare invece In una terminologia Zoom No quello che vi dico è Che io posso essere d'accordo Con tutte e due Io mal sopporto i giochi Del Tale Nonostante abbiano sfornato Le cose molto belle Però preferisco Vedere un gameplay Perché sono più vicino A esperienze interattive Borderlands Del Tale È molto bello È bellissimo È molto bello Ma pure Wolf Among Us È bello Io poi ho letto i fumetti Quindi ero molto contento Però lì C'è appunto Come diceva Michele Esperienza interattiva Sì esatto Quasi è blerrato Il limite tra videogioco E esperienza interattiva Però comunque capolavoro Still capolavoro Di questo genere Allora quello proprio Che ha rotto tutto È What Remains of Edith Finch Esatto Che invece è un vero videogioco Esattamente Che ha sbragato Completamente il limite E ti ha fatto vedere Che si può veramente Esatto Vedi la sequenza Del pesciarolo E lì veramente Racconti con il gameplay E poi c'è Minecraft Che invece ha spaccato Tutto dall'altra parte Che è full gameplay E te devi Immergiti in quello E zitto Esatto Però c'è una Pure lì c'è una narrazione Solo che non è verbale No 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 Era una tua narrazione Certo È quello che ci piaceva fare Da bimì quando costruiamo Le costruzioni Cioè Era la nostra storia No ora muovo il personaggio Così E io mi muovo Sono il protagonista Guarda io non ho mai avuto Grandi esperienze di War Ma quando mi hanno fatto vedere Non sto scherzando Non era il gioco Era uno screensaver animato Di Minecraft War Io ero impietrido Sono stato così Come un coglione Se fanno Minecraft War Io sono rovinato Io mi divorzio Ti trasferisci Ti trasferisco nel mondo In Minecraft No perché è veramente La cosa È quello È quella roba lì È bellissima Ecco Invece Riguardo Io stavo per tirare fuori Un argomento Ma è scappato Te lo stavo dicendo Questa roba L'ho perso È andato È andato Esiste già Come esiste Minecraft Ma lo devono perfezionare Vero? Ditemi che lo devono perfezionare È una beta Non pubblica Ecco Voi avete mai riscontrato Difficoltà A comunicare A condividere Un'emozione Che vi ha lasciato Un videogioco Per esempio Io penso Al filmato iniziale Tears of the Kingdom Con il link Che si butta O il link Che emerge dopo La stasi In Breath of the Wild E si ritrova di fronte Il suo mondo Che è a sua disposizione Per me è un'emozione fortissima Sì Io a volte provo A prendere i trailer Farli vedere a mia madre Faccio Mamma Guarda È inuzionati esattamente Come me Lo faccio anch'io Ecco Voi avete riscontrato Difficoltà E credete che sia Un problema di sensibilità O è un problema Magari di Generazioni Di comprensione Del medium Cos'è che ci frega Perché a me Ogni tanto È questo Che secondo me Stacca La nicchia Dal vero mainstream Dal vero luogo Io su questo Cado vittima Di intolleranza Non sarò interessante Non sarò profondo Non sarò tridimensionale Nella discussione Perché per me È solo Mancanza di sensibilità Nel momento nel quale Guardi film Guardi opere Costruite da esseri umani Con una certa empatia Una certa profondità E dici Ma tanto è finto Non è una generazione Minchia ma Chi è che dice Non è possibile Non ha idea Non ha idea Non ha idea Cioè a me mi parlo Diceva Agli horror Per farmi tranquillizzare È tutto finito Sennò poi Traumatizzata a vita No è una questione Di intelligenza emotiva La cosa Cambia Pad in mano Non è mancanza Di sensibilità Se non riesci a capire Se non riesci a entrare In un mondo interattivo Perché il tool Di interazione È ostacolante Lì no Quindi è come lo psicologo Il primo passo È uscire di casa E in questo caso È prendere il pad in mano Però se il trailer Se l'opera Non ti trasmette niente O hai completa ignoranza Del linguaggio mediatico Quindi proprio La grammatica video E non ti arriva nulla Lì devi un pochino Andare a criticare L'umanità moderna Che non insegna niente Del genere Nelle scuole Non esiste Oggi Una quantità Che mi segue Avrà le palle piene Di questo esempio Ma Non importa Qui non si è mai detto C'è una quantità Di persone Preoccupante Che non sa Che Un monologo E poi un applauso Possono essere montati In due momenti diversi L'applauso può essere Non di quel monologo E questa è una cosa Che va capita Per comprendere Diverse cose E quello magari È una questione di cultura Ma se Rimani impassibile Non percepisci Una comunicazione empatica Di un autore Dinanzi a un'opera Multimediale Sono problemi suoi Sì Allora io faccio Spesso questo esempio Io ho 38 anni Ciao Matteo Ciao ragazzi Io ho 38 anni E mi piace tantissimo Made in Abyss Ci sta Questa cosa È veramente difficile Da comunicare Ad altri miei coetanei E anche Aspetta Ti pazienza Facciamo proprio questo esempio Sì però Lì Non è colpa Di tuoi coetanei È colpa dell'autore Sì Per dei motivi Di cui non parleremo qui Basta sollevare le sovraccoperte Per scoprire Qual è il vero problema Dell'autore Esattamente Esattamente Però questo è un esempio Per dire Ok con Made in Abyss È difficile Diciamo che Io sono super fan Di un videogame Quando io ne parlo A una persona E quella persona Vede che mi brillano gli occhi Quella persona Se un po' Certo come dice lui Deve avere un po' Di sensibilità E deve fare il primo passo Di pigliare il gamepad In mano Ma io l'ho visto Con la mia ragazza La mia ragazza Cioè giocava Ma non tantissimo Comunque Quando abbiamo giocato insieme A Disco Elysium Non so se Sì sì Comunque È stato impossibile Non riconoscere Cioè Lì ci entri Devi essere disponibile Devi essere Coinvolto Da una persona Che lo vedi Ti deve trasmettere qualcosa E soprattutto Deve essere un'opera Un minimo vicino a te Perché se la mia ragazza L'avessi fatta gioca a Sekiro Lei mi avrebbe buttato Dalla finestra Capito Un esempio che fa Sempre super Hi Patchwolf Tu lo Te ne parlai per messaggio Questo manga Che si chiama Trails of Blood Sì sì Certo È un manga Estremamente Proprio È così semplice Ma mi ricordo Che hai rifrustrato Già i tempi Di questa storia qua No ma questa cosa Non mi frustra Io sono contento Ok Perché Le persone Che non Magari sono abituate A fruire Di determinate cose Ci sono Delle Delle gateway Gateway cose Tipo In questo caso Trail of Blood È un gateway manga Che ti permettono Di sviluppare Più facilmente La sensibilità Nei confronti Di un determinato media E Undertale È stato uno Di questi Di questi gateway games Secondo me Cioè nel senso È una questione Di sensibilità È una questione Anche se non sei disposto A prendere il pad in mano Vaffanculo C'ha ragione lui E però O di entrare al cinema Esattamente È chiaro Chiarissimo E però c'è anche bisogno Di gateway games Che ti consentono Di approfondire Un minimo Un entry level Esattamente Un minimo Questa cosa qui Puoi far giocare Undertale Non puoi far giocare Outer Wilds Eh no Esattamente Però Undertale Ma poi devi parlare Nel gioco anche delle meccaniche Sì 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 Però Undertale Guarda ti giuro La mia ragazza Ha giocato Outer Wilds Ha fatto Il capolavoro Ha fatto Che sta merda Sta cosa Non si può guidare E non l'ha mai più toccato Quella è mancanza di capacità Nello spazio Di tre assi Però comunque Comunque Però Ci sta Ci sta Però ha giocato 20 minuti Undertale E l'ha finito Perché comunque Immediato Su facile E semplice E poi è molto furbo Undertale Capito Con questa fiaba Sì 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 Narrato in maniera molto classica Con l'immagine sopra Certo 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 C'è un commento Di Platinum Iani Che dice Io sono d'accordissimo Con te Sappi Io lo faccio Molto spesso Anch'io Con Zelda L'ho fatto Con mia madre Ovvero Io se non riesco A trasmettere un'emozione Cerco di fare In modo che siano Le host A parlare Al posto mio Io per esempio Faccio sentire Le host Di Zelda A mia madre Mi madre Mi madre Mi madre Mi madre Ho capito Ma lì Le stai trasmettendo L'arte musicale Esatto No 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 Aspetta Io sto cercando Di trovare Un ponte Un ponte per Per fargli capire Cosa provo io Perché La componente Della musica In Zelda È una Delle componenti Che mi fanno emozionare A me Però Chiaramente Mi madre Avendo giocato Tre giochi Certo Che già non è male Comunque Sì sì Essendo una grande amante La musica classica L'opera è tutto Cerco di trovare La musica pomposa Un videogioco Trovo Zelda O anche Dragon Quest Però Lei mi fa Queste musiche Sono sempre belle E guarda Il trailer In curiosità Ora lunedì Tra l'altro Lo annuncio qua Farò una live Con lei Sul mio canale Dove le faccio Provare Minecraft Che bomba Bello Minecraft Sì Io non sono stato Minimamente incapace Di giocare Minecraft Però ci sono Lì che Faccio Farò La backseating Vendetta Le backseating Lo fanno tutti con noi Allora Michele Ora che mi è venuto in mente Dio povero Mi devi dare una mano Va bene Di per favore Non ti voglio forzare Devi dirlo se lo provi Ma di per favore Quanto ti sta sul cazzo Il fatto che quando giochi a un titolo Giri la testa E ci lasciate che ti dice Cosa devi fare Ti prego Di che ti sta sul cazzo Sembro pazzo No è Provante Ok Io mi ricordo Che una volta Sul cyberpunk Anche te stavi Per diventare Dario Moccia Che è grave È gravissimo È gravissimo Michele Dice Quando mi hai fatto Ragazzi Per favore Vi ho detto che lo faccio io Vi ho detto Per favore E io ho visto che hai detto Addio Ora esce Il livornese Il pazzo Sì 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 Meno male Che guarda Se no mi sentivo da solo Comunque lo farò Cercherò di darle delle guide E voglio provare a vedere Cosa fa È tipo 2001 Con l'osso Sì 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 Ma non sei la scimmia Per dire che insomma Tipo quando faccio giocare Quando faccio giocare Un qualche mio amico O mia amica A un gioco E loro si trovano di fronte A un puzzle E fanno No vabbè Questa cosa non si può fare E io gli dico Basta E io gli dico Ok Chiama lo sviluppatore Perché il gioco è buggato Chiama lo sviluppatore Perché tu hai detto Che non si può fare Sicuramente Tutte le persone Che ci hanno giocato fino adesso Si sono fermate In questo punto E quindi non si può fare Basta Non è inutile provarci Però quindi Te credi O voi credete Che cercare di Non convincere gli altri Ma farli avvicinare Attraverso dei piccoli stratagemmi Delle piccole pulci nell'orecchio Possa essere un bene Per È come l'educazione È fatta bene È come Dovrebbe funzionare La scuola E l'insegnamento Però devono essere Super spontaneo Nel senso Cioè capita delle volte Che tipo Parlo con delle persone E mi fanno Tipo Che hai fatto Che hai fatto ieri sera Ragazzi ho giocato A sto gioco Incredibile Ce penso da tutto il giorno Allora in quel caso Mi vede in faccia Che c'è qualcosa Allora lì Lui si interessa Capito Dice Aspetta Cazzo Se Matteo sono 24 ore Che pensa una cosa sola Forse c'è un motivo Quella è veramente Tanto spontanea Quella cosa E funziona spesso E altrimenti Appunto Cioè Può funzionare Però guarda Io comunque Ho imparato Cioè spesso Non devi Non gliele Non è necessario Che tu proponga I giochi Che ti piacciono tantissimo A me piace No pure a me Però Non è necessario No no È assolutamente Superfluo Però A me piace Perché Mi sento Che poi è un po' Quello È il motivo Perché facciamo È il motivo Per cui facciamo Questo lavoro Cioè il fatto di Cazzo Quando giocano a Capped Però Sono un po' Sono orgoglioso Ah Dario Grazie Che mi hai consigliato Andare a vedere The First Slumdunk Stavo morendo Culo strettissimo In sala Io godo Perché Hai dato un buon consiglio E hai fatto provare Un'emozione forte Hai visto The First Slumdunk Ancora no Però Sei completamente pazzo Vabbè No 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 Te lo dico così Per Ieri sera Ieri sera C'era la febbre a 38 Tra l'altro E mi sono visto A buffo Tre episodi Di Bluelock A caso Totalmente Ti è piaciuto Cioè È la prova Che puoi fare Uno shonen Su qualunque cosa Famo uno shonen Su sta tazza Si fa Si fa Questa pizza Va velocissima Questa pizza Va velocissima Sicuramente Le sue capacità Cedono le mie Devo impegnarmi di più La posso Si può fare Uno shonen Si può fare Sulla base Di qualunque cosa Letteralmente Bluelock nella dimostrazione Sì Spero che se l'enda anche il film Sia meglio No Si Bluelock è più Caciarone Più Giapponesate Quando entro in campo Sembra che entrino Dentro Un lo so Beckham Sto dicendo Nomi di calciatori Che conosco gli unici Baggio Totti Beckham CR7 Lo conosco ormai Con il codice a barre Insieme Si si In realtà Sono dei liceali Giapponesi Liceali Forse ancora meno No liceali Se non erro Sono liceali Vero ragazzi Confermatelo Perché La mia memoria Teorema di Corradini Se una cosa esiste La puoi farci Sopronoscione Io sono d'accordo Assolutamente Sì Allora ragazzi Siamo arrivati Alle 22.45 E quindi È venuto il momento Dell'intervento Degli ascoltatori Che figo Chissà Chissà Cosa succederà Morgoth Banni Metti Metti pure Il primo ospite C'è un sacco Di gente in fila Se qualcuno Purtroppo Non riesce A intervenire Ragazzi Magari Trovate un altro Argomento Magari vicino a questo Videoludico E tutto E riprovateci La prossima volta Intanto faccio un piccolo Shout out Anch'io A metà Della puntata Sappiate che sono disponibili I biglietti Del pub Live Di Colle Salvetti Provincia di Livorno 10 giugno Non me ne fotte Assolutamente niente Se c'è la finale Di Champions Cazzi vostri Punto esclamativo Pub Live Per prendere il vostro biglietto Siamo arrivati A 800 persone Quindi Circa i numeri Del Napoli Comicon Del pub Del Napoli Comicon Che erano signori i numeri Assolutamente Prego Prego Chi c'è Ma è tutto giusto? Ho sbagliato? Aò Eccoci Aò Ciao Ciao Dici tutto Sono Marco Innanzitutto Sono molto emozionato Perché vedere Tre padri insieme Tre padri Genitore 1 2 e 3 Esatto Esatto Dopo questa Chiamano il TSO Per questa affermazione No va tranquillo Questa cosa Me la sono dovuta scrivere Perché i mod Mi hanno detto Che dovevo Metterla giù meglio Quindi Ma metterla giù meglio Non vuol dire Che devi far tema Vuol dire che La rie la apri in mente No dovevo darmi ordine Perché avevo fatto Un cappello Che non arrivava Ma noi apprezziamo L'impegno Assolutamente La dedizione Prego Allora Parto col dire Che l'obiettivo È quello Di porre Sullo stesso piano Il video Il video Il video Il video Il video Ludico Con Diciamo Le altre Forme di comunicazione Universalmente Riconosciute Diciamo Dalla massa Quindi mettiamo Cinema e letteratura Allora Per la letteratura È bastata Nemmeno l'invenzione Ma l'intuizione Di poter scrivere Su un pezzo di carta Per poter dargli Il requisito minimo Tecnologico Per esprimersi al meglio Cioè lo disse È stata scritta così Il cinema È dovuto passare A meno Tra tre grandi Innovazioni Quindi La pellicola Poi il suono E poi il colore Per avere la tecnologia Minima necessaria Che c'è pure oggi Per esprimersi Al meglio Mi corrego Te non stai facendo un tema Te stai dando Un esame Praticamente Cioè ti hai messo giù Un esame Una tesi Perché se no Non si può Io faccio delle piccole Battute Per intervallare Ma vai pure Come un treno Ok Volevo chiedervi Dato che i videogiochi Sono il medium Che forse più di tutti Ha sfruttato Le innovazioni tecnologiche E ne dipende Secondo voi Oggi Siamo arrivati A questo livello Minimo Di tecnologia necessaria O nei prossimi anni Vi aspettate Che manchi ancora Un pezzo Faccio un esempio E chiudo Ad esempio Il VR Sarà quello Che è stato Il 3D Per il cinema Cioè che esce Un film Che si è entrato Ogni 10 anni E poi è avatar E non c'è una trama Oppure sarà Per il cinema Quello Che è stato Il colore O il suono Cioè quindi Sintetizzando Ci stai chiedendo Se ci sarà E quale potrebbe essere La grande rivoluzione Prossima Grande rivoluzione Del mondo Videoludico Il pezzo che manca Diciamo Secondo voi Il medium Ha raggiunto Quella Quella maturità Tale Che da qui in poi È solo Comunicare E esprimere Perché la base Forte tecnologica C'è Non è come prima Che siamo in 2D Con i pixel C'è uno che commenta Basta che La base C'è Certo Quello Per forza Uno commenta Basta che il nome fa Cambia scheda video No Non credo Non lo so Secondo me I primi esempi Di letteratura Sono stati scritti Tipo Sulle pelli Di montone Con dei tizzoni Ardenti E poi a un certo punto Sono arrivati alle macchine A scrivere Però non è che Poi è cambiato Così tanto Sicuramente ci saranno Delle innovazioni Ma diciamo In soldoni Ci siamo Non mi aspetto Che cambi Così tanto Sul videogioco Sì Secondo me Dimmi te Allora Vai Quando c'è l'allore È un casino Allora Diciamo che Rispetto Al discorso Base di comunicazione E possibile sviluppo Lo sviluppo Del videogioco È il game design Non gli strumenti Come viene comunicato Esattamente Quindi Tu vedi uno sviluppo In Tears of the Kingdom Rispetto a Non è una questione di Manca uno strumento Di comunicazione Perché la comunicazione È appunto La base Che c'è Ok Fin lì ci siamo Perché anche lì È rimasta bene o male Sempre la stessa La tecnologia Su cui si è andata A basare La sequela Di evoluzioni Videoludiche È sempre stata Verticale Praticamente mai Orizzontale Non ha mai aggiunto Cose separate A parte appunto Per esempio Il VR Che adesso è Il 3D al cinema Semplicemente perché Costa molto Lo hanno in pochi E nessuno investe A perdere Ed è il famoso Discorso del rischio Altrimenti chiameresti I dieci autori Più Diciamo Acquistabili del mondo E gli faresti fare Le famose Killer application Per quello che potrebbe Anche essere La sperimentazione Di game design VR Che ce n'è Veramente poca Ma parlando Dello step Che dovrebbe essere Non più la base Ma un'effettiva evoluzione Che è difficile Avere in tanti media Ma che nel videogioco È possibile Ma includerà Ovviamente anche Il cinema Lì sarà Però molto più Traumatico È la scomparsa Che cosa più vicino Al matrix Non così invasiva Ovviamente Non distruttiva Non Tanto così Nel nervo del cervello Non è un nervo Vabbè Ma qualcosa Che elimina Il quadrato Davanti E ce l'hai direttamente O direttamente O comunque Sì anche perché Io non riesco a immaginare Questo è un limite Personale L'ologramma è O vai su Star Trek Il ponte ologrammi Ma le secosecoli Oppure Hai bisogno Di qualcosa Di più immediato Ed effettivamente È più immediato A livello intellettivo Il concetto di Proiettare Nei sensi Rispetto al creare Un vero ologramma Che interagisce Con i tuoi sensi Ok E qualcuno Da Continuo La narrazione Di prima Sulla scheda video Mi sa che Tocca Cambiare La scheda video E uno Ha aggiunto Una parentesi Un po' più volgarotta Tocca mettersi La scheda video Nel culo Perché chiaramente Certo Dove la devi mettere Se no Con l'assenza Dello schermo La scheda video Gli orifizi sono quelli Gli orifizi sono quelli Marcone C'è altro? No Ma Non voglio Andare contro Sabaku sia mai Ma questo Ma che è Una connessione Neurale diretta No 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 Scherzo scherzo Ma una connessione Neurale diretta Perché è interessante Non ci avevo pensato Minimamente Ma potrebbe essere Ancora definita Videogiocare Certo Sì Certo Sì Oppure ci scopi Come una puntata Di Black Mirror Che mi ha fatto Arrapare Mi fa schifo Quella puntata Però mi ha fatto Arrapare Certo Ovviamente Ma quella di Street Fighter Che loro trombano Che è incredibile Alla fine Cioè alla fine Il termine Videogioco È anacronistico Anche oggi Si è vero Si manterrebbe Prenda awareness Che non altro Facciamo aprire Questa parentesi Abbi pazienza Certo Un miglior amico Prendo Anzi Una figura Magari conosce anche te Panetti Prendi 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 Cosa Cosa c'è Giocarsi Fai delle contro Panetti E poi dello scopino No Sì please No Non detto Quello Che prendi Una persona Che Cioè Ti piace A livello Psicologico Cioè ti piace E sei etero Quindi cosa si fa Ci joy Ci trombine Joe Cosa ne pensi Cioè nel senso La mia risposta Può offendere Qualunque Questo balbettio È incredibile La mia risposta Può offendere Tutte le Sottocategorie LGBT O separatamente O insieme Anche No però Credo che Che tu Ti voglia Trombare Il tuo miglior amico Nella vita reale O nel videogame Credo che Tu puoi farlo Tranquillamente Second life Cioè sia Nella vita virtuale Che nella vita vera Lo puoi far E se Ti rimane difficile Farlo nella vita vera Perché c'è un po' De difficoltà A farlo Volevo aggiungere Questo tema All'argomento Sì 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 Sempre parlando Di sviluppi tecnologici Del media Sì 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 Finiremo sempre là Qualcuno tromberà Con qualcun altro Prima o poi Esattamente Grazie mille Grazie a te Marco Grazie a te Dopo aver parlato Di questo Marco No no Era un grazie generico No lo so lo so Ma fatti te scherzavo Ciao Marcone Alla prossima Ciao 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 Già lo fanno Sì sì lo so Anche negli RP Lo fanno Super imbarazzante Sì GTRP Trombano così Simulano l'orgasmo Delle cose Senza senza Pazzesco Chi è il prossimo Ciao Dario volendo scopare No non è quello Non è quello È per dir Un esempio Oi Ciao papà Ciao papà Tutti a te Basta con questa storia Perché oggi è Dibi comunque Ciao No allora Volevo continuare Il discorso che stavate facendo In ultimo prima degli interventi Perché noi si diciamo Che il videogioco È mainstream E tutto quanto Ma in realtà Siamo noi 4.000 5.000 Che ce la cantiamo E suoniamo Ricordiamoci sempre Che i giochi Che saranno sempre venduti Più di tutti gli altri Che sono FIFA e sono Code Ma non è più così Di Microsoft Aspetta Di Microsoft che è successo E va bene così Forse non hai visto Lo cito sempre Forse non hai visto La classifica Di giochi più venduti Del 2022 Appunto Al primo posto E al terzo posto Sì lo so Cioè FIFA e FIFA No no lo so Lo so Sì Still Non è il 98 Ok Ma va bene così Ricorda Il miglior gioco Il gioco più venduto Del 2023 Sarà FIFA Ovviamente Ma è come dire Che il film Più visto è quello Il disco più ascoltato È quello È normale La serie più vista Sarà quella Insomma È normale Ah i GTA 5 È il secondo posto Sì questo Perché ovviamente Perché c'è la gente Ci droba in Però il Dendering Ha venduto 21 milioni di copie Che è una robetta È una robetta Eh sì Che colina No Chiaro Sono le grandi In questa maniera Si conosce Solo Quanto è Un centesimo Del potenziale Videoludico Per chi già gioca Ma poi c'è tutta Anche un'altra Fascia di pubblico Che ostracizza Se non demonizza Tutto il comparto Videogame Non scordiamoci Il nostro sempre caro Generatore di meme Coca Web Che ci ha Rallegrato Per tante giorni Vero Vero Non lo conoscete Coca Web È un libro Che ha pubblicato Un tipo Ok Tremendo Terrificato E quindi No La domanda in sé È come pensate Controlando appunto Il discorso di prima Come pensate Che deve essere La tua azienda Comunicato E venduto Il videogioco E poi Da Anche mettendomi Nei vostri panni Quindi di chi fa il vostro lavoro Divulgato Un certo tipo Di gaming Perché poi Mi porto anche Un altro esempio Perché Secondo me Al contrario Di quello che diceva Michele poco fa Non è vero Che non sia sensibilità E che Devono provarlo Sulla loro pelle Ad esempio Io ho fatto L'esempio A quei miei Di fargli vedere Il primo episodio Di The Last of Us La serie Solo dopo Io sono impazziti Bellissimo Fammi vedere Fesso Sì Io ho detto dopo Che era tratto A un videogioco È anche vero Che The Last of Us Il primo Ragazzo Aspetta The Last of Us Il primo Quando c'è giochi Per le prime due ore Anche io ho fatto fatica A capire Che era un videogame Effettivamente Sembrava veramente Tanto 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 Un prodotto Cinematografico The Last of Us Tu hai fatto vedere I tuoi genitori Un prodotto cinematografico Ispirato a un videogioco Non era un videogioco Eh sì Per niente Esatto Ma la curiosità È nata da quello Può nascere da quello Sì ma infatti Il discorso della sensibilità Non era A chi non provava Ma a chi guardava E non capiva Era quello Era quello il discorso Il dire Ma tanto Il fatto è questo Le aziende Sono purtroppo In una spirale Senza uscita Per molto tempo Perché adesso Purtroppo Il loro ragionamento È cercare di fare Quanto più spread possibile Nel minor tempo possibile Per essere i numeri uno Sempre Qualunque cosa accada Quindi Manca un po' Di quel classico Amore da content creator Per chi ce l'ha Del fare Perché è bello fare Ed è per questo Che ci sono certi tipi Di presentazioni Certi tipi di trailer Certi tipi di comunicazione E da questa cosa Non si scappa Finché Forse non scoppia Qualche bolla grossa Ed è un peccato Però vedremo Ed è lì che Esce fuori L'andare a cercare il Che è già un peccato Di per sé Dover cercare Ma è necessario per E Io non Di nuovo Qui non sarò Particolarmente brillante Ma credo che In buona parte Una cosa che deve succedere È che Tutto quello Che va A creare questo linguaggio Sminuente E di Non tanto incomprensione Ma classica Quasi appunto Fobia dell'incompreso Dello sconosciuto Perché non c'ho la voglia Devono morire tutti Di No no Sì ma Letteralmente Devono passare due generazioni Dopo la nostra Vabbè Però Anch'io Per tanto tempo Ho detto che Palle Non ho voglia di vedermi Better Call Saul Sì ma non è Non sto parlando di chi Non c'ha voglia Perché Io pure Non c'ho voglia di vedere Quella serie Ovviamente Sto parlando Del classico linguaggio Del fatto Di Coca Web Ah tra l'altro Il tipo Era un senatore Della Repubblica Però non lo rispetto Quindi per me È un tipo È un pallino Si dice anche in Toscana È un pallino Un pallino Sì sì No non dico altro Perché ho paura Di essere querellato Però Insomma sì No secondo me Fra due generazioni Diventerà il Io lo dico sincero Cioè proprio tranquillamente Il medium principale Dell'intrattenimento Di tutti noi Ma lo è Più del cinema Secondo me lo è No ora non ancora Non ancora Fa più soldi Perché costa il triplo Fondamentalmente Però Non è ancora così Semplicemente Il vero problema È che Quello che dice Dario è giusto Le aziende continueranno Secondo me Rischieranno Se non cambia qualcosa Cercheranno sempre Di essere quanto più Complete possibile Ossia utilizzare Tutti i media Per venderne uno Come lui Esattamente Che era Movimento Poi C'era l'educazione Il moto Infatti ha venduto un botto Anche tra gli anziani Gli adulti Ci vorrebbe un Un Wii furbo Ancora più furbo Che però ti ci infila dentro Le robe Ma il returnal E ti fa la vecchia Ma cos'è questo E si viene proiettato Nel mondo Di balle e tell In 3D Capisce E ci more Perché può darsi Perché Effetto Staposcopio Mori Non c'è lo schermo E via Ah perché Te ti sei già Esatto Adirittura la vecchia Attaccata per la serie A rotelle È bello Interessante Andiamo avanti Il famoso meme Di Mirror's Edge In VR Di quello lì Che salta E perfora il televisore È una cosa del genere C'è altro? No Una considerazione Quindi alla fine Devono essere tutti Come Fortnite Alla fine Che è diventato Cross mediale Tra virgolette Aspetta Non ho capito Cosa intendi Perché? Perché Perché No Seguendo l'ultimo Discorso di Dario Che sono Sono convinto Che io Su quella linea Che appunto Il videogioco Diventerà Proprio Il mezzo Di comunicazione Principale Ma paradossalmente Quello che ha Osato di più Da quel punto di vista È Fortnite Facendo tutti Quegli eventi Incredibili Facendo il concerto Di Travis Scott Sì ma perché In quel caso Più che un videogioco È un medium Di per sé Fortnite Esatto Esatto Sì 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 Ma quella è una questione Simile al È più brand È più La Coca Cola Che non È un videogioco Come medium Che intrattiene Diventa quello Che ogni essere umano Come stanno facendo Con Mario Cioè la stessa cosa Mario lo mettono Sulle colombe pasquali Esatto Cioè è un brand Che rappresenta Non solo il videogioco Solo che come diciamo Prima ci hanno messo 40 anni a realizzare Che si poteva fare Stato Ci hanno messo un po' Lo fanno Lo fanno Ciao tesoro Grazie mille Ciao ragazzi Ciao Ciao C'è il cerchio In cuore Ciao Pensavo ti avessero Rimosso brutalmente I moderatori Eh sì No non è morto Era qua Era qua Il nostro Non è esploso Ragazzi non è che Dovete sempre pensare Al peggio A questi livelli Io domani C'ho un treno C'ho un aereo Alle 6 per Trapani Eh lo ricordo Io ogni tanto Vedo l'orario E penso Ah già Ah già Che bello Mi tocca fare after E sarò a Trapani Sì Che mi filano la pasta La norma Nella bocca Vabbè Prossimo chi è? Oh Ciao 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 Piacere Matilda Ma una ragazza Un miracolo Saranno tre puntate Radio Tomodace Non interviene una Meno male Ma allora esistono 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 Ce ne sono pochissime Nella mia community Ma ci sono Sì esisto Esisto Io È una domanda Che ha avuto Qualche controversia Nel gruppo Interessante Però spero che Non mi abbia In questo momento Allora Io sono una ragazza Che gioca Ai videogiochi Non proprio con Non proprio con grandi Abilità Però la mia domanda Però la mia domanda Mi odieranno tutti Ma che cazzo Ma che cazzo te ne frega Vai Esatto Vai Ma cazzo duro Cioè Vabbè Comunque Vai dritta Call of Duty Per esempio Io entravo Nell'online E appena sentivano Una voce femminile Già Dovevo uscire Perché era finito Il gioco Orribile Che persone Morrende Ma chi cazzo Hai beccato Scusa I demoni Volevo chiedere Secondo voi Come le aziende Stanno cercando Di ampliare Più il mercato Verso un mercato Più appunto Femminile E che giochi Voi consigliereste Per esempio A delle mie amiche Che non hanno mai giocato E che vorrei Portare in questo mondo Che non possono Troppo Come posso dire Che non abbiano Una community Troppo chiusa Perché so che Certe community Di certi Videogiochi Sono molto chiuse E è difficile Entrarci Quindi vorrei sapere Avere la vostra opinione Su Quest'apertura Verso Nuove Nuove persone Che entrano appunto A giocare Sì sì Ti stai ingabbiando Stai in modalità Eurovol Guarda Io ti posso rispondere Sulle aziende Secondo me Stanno fingendo Esatto Stanno facendo Esattamente Quello che stavo per dire io Le aziende Non aver fiducia In quello che fanno Siete soltanto ricci in più Fine Non c'è nient'altro Fanno tanti post Fighi Tutti Passano solo pose Poi effettivamente Nell'atto pratico Non stanno facendo Ogni ne potrebbe fregare di meno Siete semplicemente Un consumatore in più Sì 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 Tra l'altro una minoranza Ecco In un certo senso Infatti è quello che Fanno finta e fanno male Ecco E per quanto riguarda Il gioco No? Dicevi Sì Sì Se avevate qualche consiglio Anche indie Insomma Sì Vabbè Io Magari passo da sestista Perché consiglio tutti i giochi Prettamente femminili Però ci ho giocato io E mi è garbato tanto Solo che ho capito Che ci stavo per perdere La mia interesistenza L'ho mollato Che è Animal Crossing Che quello Mette d'accordo tutti È semplice È immediato È colorato È bellino C'ha quel design fantastico È molto personalizzabile E la community è molto dolce Sì 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 Dovrebbe essere Spero di sì Mi sono sparato a zero Ma penso che non siano Dei mostri gatekeeper Quelli che giocano Spero di no Com'è la tua risola Ma anche Breath of the Wild Secondo me va benissimo Ma infatti È molto semplice Io Faccio fatica Ok Tranne alcuni esempi Che sono Insomma In maniera abbastanza spudorata Rivolta a un pubblico maschile Io credo che comunque Non lo so Appunto faccio l'esempio Della mia ragazza Lei Ma il gaming è unisex ovviamente Appunto Il problema è che Ovviamente Però sta parlando di amiche Che non giocano Videogiochi Lontani da questo mondo Perché il mondo E la ragazza che sta parlando Viene comunque Dalle nostre generazioni Ok Sono le ragazze In piazzetta E mangiano il gelato Nel paesino E si fanno cazzi loro Ma perché le devi far giocare Videogame queste ragazze Ma non muo Ma perché Ma perché le devi far giocare Videogame Perché le loro Le loro Passioni Lascia le loro Passioni No Proprio Gatekeeping Puro Perché Matildona Vorresti fare giocare Vorresti condividere E far du chiacchiere Con le toni Sì per sapere Perché comunque Mi vedono Che io per esempio Gioco a Genshin Eh però scusa Allora fanno bene A non giocarci Al video Ci ho anche lavorato Non è vero Mi capo da morire Era una battuta Ma a me è stato Un piatto Ma a me è stato un piatto Da gente Vabbè dimmi 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 No e quindi Vorrei cercare di coinvolgere Anche loro Nella mia vita Perché già Comunque manga Non se ne parla Anime non se ne parla E almeno questo Magari Che è più interattivo C'è la soluzione Cambia amiche Abbiamo detto In tre insieme Non sbaglio Ovviamente La logica è diretta Però in effetti In realtà Probabilmente Qui si cade veramente Nel pubblicitario Anni 90 Nella banalità Assoluta Perché comunque È un target Totalmente opposto E incastrato Nell'insieme Di questo genere Di risposte Che lì si finisce Probabilmente La risposta è davvero Switch o qualcosa del genere Cioè è una roba Semplicissima Leggera Gliela fai provare C'è qualcosa di colorato Divertente Interattivo Che da loro La soddisfazione La dopamina Del vincere qualcosa E O se no Io guarda Sì perché Dimmi No no Out of all boyfriend Beh cavolo Vado io o vai te Matì? Vai tu Vado io Grazie Matì Allora quello che vorrei fare Cioè io per esempio Ho Cosa ridi? Sei pazzo te Ah stai vivendo No io per esempio Ho due gruppi di amici Cioè ho gli amici Del mio paesino Con cui non ci parlo Di videogiochi Ma ci parlo di altri Anche perché ci si vede Ormai una volta Ogni volta Di papa E poi c'ho Un gruppo di amici Con cui parlo di videogiochi Di altre passioni Magari ti puoi far No ma infatti Io ho le mie Le mie migliori amiche Sono giapponesi Perché io ho vissuto Sono stata a Singapore Per un po' di tempo E ho avuto amiche E con loro ovviamente Abbiamo gli stessi argomenti È un percorso che è un percorso Bello colorato Colorado co-op Colorado co-op Il continuo è un percorso E' un percorso di intervenire Un saluto Ciao avremo occasione Quello che dico Dimmi da anche te Giusto due le cose Come si chiama Direttore Sì esatto Come ti chiami Mi chiamo Mattia Però il mio nick è Aaron Ah Aaron Aaron esatto Allora La prima domanda È quella un po' più complessa Te la leggo al volo Perché altrimenti Oggi sono preparati tutti Vai Aaron Sì sì Vai 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 Ok Secondo voi Il fatto è che adesso I videogiochi Siano diventati Mainstream Ha un po' condizionato La qualità Perché ovviamente Se il mondo dei videogiochi È conosciuto da molte persone È un bene Incassano di più E teoricamente Investono appunto Sui loro team di sviluppo Ma d'altro canto La qualità potrebbe In qualche modo Risentirne O addirittura calare Per creare appunto Giochi fruibili a tutte A tutti scusatemi Con le dovute eccezioni Dipende cosa Nel nivel di qualità È letteralmente il tema Di questa puntata Questa domanda La risposta che In maniera molto riassuntiva Ti diamo è Sì quelli mainstream Quelli non mainstream Potrebbero cogliere Questa flessione Della qualità Di quelli mainstream Per tirare fuori Delle idee Che in AAA Non vedresti mai E che è una cosa buona La qualità Tecnica dei AAA Non fa che migliorare Esattamente A livello di investimento Per esempio Chi ci costruisce La propria identità Sopra come Sony Sony investe Una quantità di denaro E di risorse Incredibile Nelle esclusive Molto A livello estetico Cinematico E diciamo Espressivo Dell'esperienza Video Ok L'esperienza ludica L'esperienza ludica È in secondo piano Nonostante alcune eccellenze Ovviamente Perché Quello con la quale Vendono il prodotto È L'impatto Nel mondo mainstream Diciamo giusto Sì sì Certo Certo Che è il contrario Dell'indie dev Esattamente Che dice Mi segue l'appassionato Del videogioco Certo Il mio focus È sul Game design Sviluppo quello Al meglio Tiro fuori Delle idee Rivoluzionari Anche Fatte con un centesimo Dei soldi Io sono stato Sempre apologetico Delle cazzate di Kojima Perché lui è Il mainstream Che ha sviluppato Il game design Certo Non è l'unico Però è uno dei Sì 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 Cioè più che altro Ha avuto Uno che ancora C'è prova Ha avuto Le palle Di fare qualcosa Di diverso Rispetto alla solita Telecamera a spalla Via A fare avanti tutta E vediamo cosa succede Filmati bomba Esplosioni È un po' il Cinecomics Del videogioco Questa roba Sì 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 Io poi apprezzo Anche la serie Di Uncharted Per esempio Come no L'ultimo Il quattro Secondo me È il migliore di tutto Però è un film Cioè nel senso Lo giochi dicendo Ok sto avendo Un'esperienza Percentuale Più cinematografico Che videoludico Sì sì Dove ti arrampi Che cose sai La spettacolarizzazione E ci sta C'è una volta al mese Che lo vuoi fare Sperla fare Sì sì Esatto Sì lo giocherei Per esempio Un'altra Uncharted Paradossalmente O un altro spin off Però non deve esserci Perché? Perché ci tengo tremendamente È un capriccio Romantico Personale Ma secondo me È anche un argomento Più serio Dello sviluppo Di un'azienda Naughty Dog Ha sempre fatto trilogie Sempre trilogie Uncharted 3 Un po' apocrifo Quindi hanno fatto il 4 Che in realtà è il 3 Ma non si dice Però Basta Hai dato Tutto quello che potevi dare Hanno fatto anche The Lost Legacy Non scordate Sì però È un po' come Golden Abyss Su PSP Vita Cioè Ben Insomma Hanno addirittura Fatto una roba Standalone Apposta Per dire Ci stacchiamo Che poi è furba Perché non dovesse Standalone Sì E infatti Quelle cose A me Però è bello The Lost Legacy È bello Perché ha sviluppato L'open map Che avevano fatto In Uncharted 4 Eccetera Però per me È molto bello Quando fai una cosa Chiudi E vai avanti Sì sì Anch'io Io sono Anzi spero Che Naughty Dog Faccia un altro genere E stanno facendo Un fantasy adesso Io me la collavo Anche un platformone Nuovo di Naughty Dog Lo dico dai tempi Di Uncharted 2 Sarebbe veramente bello Ne ho bisogno Un platform Fatto Tripla Tripla veramente Se non esistono più Che ci sta Che ci sta Ci sono Nell'indice Nell'indice È pieno Però Cioè più che altro Vanno in sottocene Le platform Metroidvania Sì 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 Esatto Sì 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 Scusa Poi c'avevi un'altra cosa No? Sì 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 Però prima di Dico un'altra cosa Posso Secondo me Non un po' L'opinion God of Ragnarok È stata Una vittoria Amara Nel senso che Tecnicamente È indubbiamente Perfetto Cioè su PS4 Hanno fatto letteralmente Dei miracoli Ma almeno per il mio gusto Personale Per quanto riguarda Trama Sceneggiatura Non è un popular No 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 È smart Ok ok Comunque C'è una merda Sotto il punto di vista Vabbè Ho messo Crato Serfiglio A fare le posette Alla Marvel Ma sì ma certo Ma chiaro All'inizio è andato piano Poi quando ha capito Che aveva il plato Allora Le posette De merda Corfiglio Ma Non è quello Il problema Però sicuramente Ci sono Sì è stato un momento È il cringe Il momento Il terzo Il terzo atto Del gioco È terribile Regà È rasciato Frasico Ma perché God of War Ragnarok Era E io qui Mano sul fuoco Proprio come se fossi Tu dune Bello se che Mano sul fuoco Ho sbagliato camera Ho inquadrato La telecamera Della mano Era God of War Phil Boonwilter E poi ci sarebbe stato God of War Ragnarok Erano tre Sì sì Fine E dovevano essere tre Sarebbero stati scritti Anche meglio Esatto Te l'ho detto L'ultimo art Il 2 qual'era God of War Quasi perfetto Phil Boonwilter Ah che era la parte prima Dici Ma non è ufficiale Ok certo Come ovviamente Sarebbe stato chiamato Ovviamente Io sono Lo confermo Per me l'ultimo atto L'ho detto mille volte È una rissa in Calabria Gente si tira le osi A caso Sì sì No è così E dura più La raccolta dei frutti E la merda di mucca Nella mota No regà Ci sta il capitolo Nel mondo dei giganti Quello Quello Anche Broda Quella roba è vergognosa È tremendo Saranno 4 ore di gioco No però 2 sì 2 ore e mezza di gioco È vergognoso regà Quello è Brutto brutto Un problema Il primo era riuscito Nel coniugare Era proprio tanto autorale Cioè aveva una ciccia dietro Quell'opera Aveva una ciccia Bellissimi dialoghi Anche lì Aveva una profondità mentale Qui invece è molto 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 Superficiale Aveva anche una profondità Di gameplay Per cui era sviluppato Come un gioco tripla Nella parte centrale Del gioco Poi nel post game C'era tutto Quell'in più Che se ti piaceva Chiuderti Ma in quello in realtà Paradossalmente è anche meglio Ragnarok No l'ho trovato Io in quella parte lì Ho trovato più soddisfacente Quello prima Perché mi è sembrato Un pochino fatto meglio Però sì Vabbè sì Comunque non Ragnarok È un Un velo Da discutere Vabbè Vabbè La seconda domanda Ok L'ultimo gioco Che vi ha lasciato Bocca aperta Sceneggiatura Scusatemi Per quanto riguarda Scrittura e sceneggiatura Outer Wilds Ok Tipo non è È molto poco scritto È però È però È vero È vero Per quanto riguarda La sceneggiatura È una domanda È una bella domanda Per quanto riguarda La sceneggiatura Io ce l'ho Quindi lo dico su The Last of Us 2 Quindi Per quanto riguarda La sceneggiatura È una domanda Molto difficile Vabbè Un curiosissimo Non lo so Potrei Il fatto è che Quando gioco ai videogame Non mi soffermo tanto Sulla testualità Dei giochi Quindi a livello Di sceneggiatura Forse faccio fatica Cioè per dirti The Last of Us 2 È piaciuto un botto Pure a me Però La parte Di scrittura La ricollego Molto di più Al cinema Al mondo Delle serie tv Ad esempio No Cioè un gioco A livello di racconto Mi piace veramente Veramente tanto Ma lì Part 2 Usa molto Il fatto che tu Giochi il personaggio Sì 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 Appunto Lo sfrutta parecchio Un gioco mi piace Veramente Veramente tanto Con la tua coscienza In un certo senso Sicuramente Imprescindibile Di discolissimo Giocare a discolissimo Giocare a discolissimo Ragazzi fatevi Fidatevi Però te sei più uno Da gameplay Rispetto alla storia Perché Ma a me Non è che so più Da gameplay Mi piace Cioè la cosa Figa Di raccontarne Videogame E raccontare A traversi il gameplay Non necessario Ovviamente con la testualità Ma non necessariamente Con la testualità E per me È importante È veramente Tanto importante Sta cosa Buono Sei soddisfatto Aaron Soddisfattissimo Grazie Volevo chiedere una cosa Sabbavo Se è possibile Mica Dario non me lince Per favore Può fare un saluto Alla Green Squad Per favore Dio povero Ma oggi sembra La Rai Veramente Sembra A quale squad Saluti Bionoma Che purtroppo A 96 anni Ci sta lasciando Faccio un occhio Nello scopaggio Anche alla Green Squad No Non abbraccia Ma subito le mie stronzate Come assudate Avremo modo Che siano cazzate Ok grazie Vai Ma devo capire Lo spelling Cringe Squad La squadra del cringe Quindi è appropriato Cringe Squad Meritate il nome Avremo modo Così Avremo modo È scontato Che meritino il nome Bene ci sta Ci sta Avremo modo Avremo modo Va bene Ciao Aaron Ciao Ciao Bene Bene Basta saluti Però Ciao 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 Mi chiamo Michelle Ciao Michelle Ciao Ciao E allora La mia domanda era Che il mese scorso È stato rilasciato Un trailer Di un gioco Che si chiama Anorra Stai laggando di brutto Tesoro Non so se avete visto Stai laggando di brutto Provo a chiudere Se chiudi Non ti si sente più Se prova a chiudere Magari delle app Delle robe che ciucciano banda Prova un po' il crott Meglio ora Prova un po' Proviamo Proviamo Allora No dicevo Il mese scorso È stato rilasciato Il trailer di un gioco Si chiama Record Non so se avete visto qualcosa Purtroppo no No E dovrebbe essere Uno sparatutto Che Racconta la storia Di questo poliziotto Che deve risolvere un caso Ed è tutto attraverso La bodycam E diciamo Ho fatto molto scarpore Per Il realismo Si chiamava Record Ok ho capito cos'è UnRecord Ah ok si ho capito quale Si lo conosco bene E quindi Prima si parlava anche di Nel futuro Avere collegamenti neurali Con videogiochi Si Ma Ad ora Tenendo comunque Il medium dello schermo E tutto Si certo Si può raggiungere Un livello di realismo Troppo elevato Aspetta Aspetta Troppo elevato Allora partiamo dal presupposto Cioè che non si riconosce più Il videogioco Dalla realtà Quello è un po' il punto Tipo Sì Ok Che non lo senti più Videogame Vabbè Allora L'argomento è interessante Diciamo che da una parte Io Avrò sempre una percentuale Tilt mentale Che si ricollega Alla cultura Del montaggio video Che manca All'interno Dell'insegnamento digitale Al popolo E alla specie Il fatto che Ci sia stato scalpore Cioè la gente Che diceva Questo è finto Non è un vero videogioco Perché tutto In realtà è un filmato Non avete gli occhi Non avete È come L'abito blu Giallo Dorato Non avete gli occhi Non avete la capacità Cognitiva Di aprire Un'app di colore E mettere il puntino Per vedere il colore Pantone Però io sono molto Intollerante In queste cose Conosco Il fatto che manchino Proprio A volte Comunicazione E insegnamento Di certi temi Non di meno La domanda è figa Il fatto è questo Peggiorerà Peggiorerà soltanto Perché quando ci saranno Anche piccoli pattern Di intelligenza artificiale Utilizzata anche per creare Dialoghi e reazioni contestuali A un omicidio O qualcosa Oh lì sarà proprio divertente Lì Lì altro che giornali Il videogioco uccide Oh lì sarà incredibile Lì sarà Letteralmente il discorso Ma era vivo davvero E lì sarà un sacco divertente I prossimi 50 anni Saranno Si invecchierà bene ragazzi Si invecchierà veramente bene Però il fatto è che La risposta è Per me no Per me no Anzi è pericolosissimo Cominciare a mettere Dei paletti di questo tipo Perché sono di nuovo Una sorta di regressione Al ferire un'arte In generale Il fatto è che Universalmente Il fotorealismo Non è una buona idea A livello grafico Perché pesa In una maniera Sconcertante E infatti non funziona Allo stesso un record È tutto sfocato Il bloom Perché non puoi far vedere Le cose che farebbero notare Cioè Se hai occhi lo vedi Ma se non li hai Hai punto Ma non è inteso come Non sei scemo Se non hai La cultura di capire Cosa è in engine Cosa no Ti confonde Perché dici Forse è vero Perché ti nasconde Col bloom Il focus E certe cose Le evidenti Tecnologità Dietro Però Il gameplay La grafica E l'estetica Sono due cose diverse Per quanto si connettono E il fotorealismo Oltre a essere appunto Difficilmente raggiungibile Indipendentemente Dalla potenza hardware Non è una buona idea Ma la risposta è no per me Non sarà mai troppo realistico Ok Io penso Guarda Non ho una risposta precisa A questa domanda Perché Tendenzialmente Sono molto molto più attratto Dai titoli O dai progetti Che vanno Nella direzione opposta A quella del realismo Graficamente No Questo è lecito Il fatto è che La domanda è interessante Perché ovviamente Se sei una persona Che mentalmente non è stabile In generale Basta poco Certo Un gioco troppo realistico Davvero poco Ti fotte Ti fotte No perché altro Ti perdi tutta Quella componente Direzione artistica L'estetica Magari la fai cartoon Magari la pixel art Eccetera Che è un peccato Buttarla via così Insomma No beh Per certi linguaggi Il fotorealismo Serve Però Uniformare tutto a quello A parte che è impossibile Infatti è una cosa personale Io sinceramente Non trovo particolarmente interessante La propensione al realismo Nei videogame Ok Cioè perché Si avvicinano troppo alla realtà Ma perché Ce sta già Cioè No vabbè Adesso Ho capito Certe cose In realtà non le fai Nel senso Guarda Se devo essere Preciso Non lo fai Non è che Non è che lo fai Veramente Anche nel videogame No appunto Ok allora Che cazzo te ne frega Cioè Nel senso Bello Questa Si È vera Questa cosa Cioè Tu vuoi sparare a qualcuno No intendo dire Stai dicendo Che vuoi sparare No sto scherzando Tu hai degli strumenti Se tu stai fingendo Di sparare a qualcuno Che cazzo te ne frega Se è super realistico Non lo è Stai fingendo Stai giocando È un gioco Ma ti dà dei feedback diversi Ma boh Non lo so Non lo so Non mi Non sono Non so fan Non so fan Eh no Non so fan Però diciamo la verità Se te giochi a Sniper Elite E fuori le palle del nazista Ok Lo potresti fare anche nella realtà Però non è che c'è il super zoom Con l'X-ray Che ti esplodono le palle Esatto Che ce fai col super zoom Con l'X-ray È una cosa così Per ride Sì per ride Cioè Nel senso Non è che Non è che ti cambia tanto No no è vero Infatti mi sono rotto il cazzo L'ho droppato dopo un'ora Per quello forse Va bene Non so Non sono grande fan Scusate Non Ci sta Ma io sono da Posso essere A me Mio genere preferito Il platform Cioè A meno che non voglia far parkour È molto difficile Insomma E lì se mori È un casino Un torno di vita Va bene C'è altro Claudi Ma Sì Un'altra domandina Giusto Prima sei Parlato Anche Appunto Come gli indie Dovrebbero Cioè sono il futuro Comunque si parla Della creatività No Dell'originalità E Adesso Diciamo È impossibile Che vanno a soppiantare I giochi super Di Di massa Come si fa Eccetera Però Secondo voi Esiste veramente Un futuro Dove Questa cosa può succedere No E no Perché poi si inverte Non si smettono di chiamarsi indi Si chiamano Dribla E viceversa Quindi No Devi entrare in dei compromessi Che li renderebbero Molto limitati Sì Esattamente Si torna al discorso Rischio coraggio Che scomparirebbe Bene Diciamo che la maggior parte Delle volte Fare una valanga di soldi È bello Però ti crea delle problematiche Diciamo questo Sì Per i giochi successivi Per il mercato Influenzi Un filone intero Che poi si adatta E fa solo quello Per tutta la vita Esatto Eccetera Sì Io pensavo più che altro A Far Cry Che insomma Sì Far Cry Ha ferito il futuro Ubisoft in generale Insomma è un po' Quello lo stampo Purtroppo Una catena di montaggio Rayman Non si sa Che è la loro mascotte Non si sa che fila fa No ma il discorso Catena di montaggio Qualche azienda ce l'ha Cioè c'è In Mario Rabbids C'è il DLC con Rayman Ma poi finisce Prego C'è qualcuno altro Che lo vissi Eh Una decina oggi Quindi un po' Un po' di persone Pokémon ragazzi È l'apoteosi Di questo Di questo Ehi Vai Mi sentite Sì 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 Perfetto Ciao Ciao sono Andrea Sono un musicista Ciao Andrea Buonasera In realtà ho già interagito Con Sabacu in passato E con Matteo Sono stereonautico Oh Complimenti Ce la fai alzare un po' Il volume Perché sei Sei molto basso Alzo il volume L'umore è meglio Molto meglio Sì mi dicevi scusa Sono Ok Sono il ragazzo Ha fatto il meme De Balenciaga Ti ricordi Abbiamo parlato Ah devastante Sì sì Grande Ciao ciao Così Finito No comunque Volevo chiedere Facendo un parallelismo Con Anche il mondo musicale In cui abbiamo Delle nicchie Che sono diventate Super nicchie Insomma Adesso nel mondo musicale Anche romano Vediamo Entità musicali Che sono enormi Anche se nella loro piccolezza Ci potrà essere anche La stessa cosa Con i videogiochi Moriranno quindi le nicchie Anche quando Noi saremo genitori Faremo figli Diremo figliolo Giochiamo insieme Adesso a Devil May Cry Così lui cresce E capisce I videogiochi Sempre meglio E magari inizia a produrre I videogiochi anche lui Con la disposizione Di maggiori mezzi Si potrà raggiungere Un punto in cui Sì ci saranno quelli Che giocheranno a Call of Duty Fortnite Tutti quanti Però anche gli altri giochi Avranno un valore Così Ci siamo già Quasi Ci siamo Esatto Cioè in realtà È un circolo È una spirale È un circolo Nel senso Ad ogni franchise Ad ogni filone Di videogiochi Estremamente successful Che vendono Un mare di copie Naturalmente Si affianca Una serie di titoli Estremamente Interessanti Che però Hanno meno successo Anche l'esempio fatto Di Devil May Cry Stai comunque citando Un franchise enorme Ovviamente non enorme Quanto i FIFA I Call of Duty Ovviamente Però ci sarà sempre Qualcuno più indie De te Capisci che cosa intendo E poi vai a giocare Appunto Al gioco sviluppato Dallo sviluppatore Est europeo Strano Che per tre anni Non si è inculato nessuno Un giorno esplode Tutti dicono Ah ma sto gioco È una bomba Sì E ci sarà sempre qualcosa Di più misterioso Comunque Cioè quindi Ma è bello così È figo così Così noi potremo Cercare Potremo scavare All'infinito Ragazzi Ed è questo Quello che voglio fare Passare i miei giorni A cercare Sempre più cose E cercando Hai trovato qualcosa Di effettivamente Figo Certo Sì 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 Ma anche per dire Vabbè Vampire Survivor È enorme Però comunque All'epoca C'è la leggenda Che dicono Che Vampire Survivor Si fece notare All'inizio Perché uno Degli executive Microsoft C'era 30 60 ore Di gioco Su sto giochino Super semplice La gente ha fatto No aspetta Com'è possibile E quello è uno Degli esempi Però Sì Ha voglia Continuamente Ma veramente Basta Seguì Ci sono Content Creator Che lo fa Una voglia È come Percepio Berlusconi Che ha portato Lupin In Mediaset Perché adorava Lupin Lui personalmente Veramente Grande Intenditore È come Fininvest Che ha fatto Il live action Di Kid The Kiss Milicia Bravo Perché erano Finite le puntate E il pubblico Ne voleva dire Le voglio le altre Famo in live action Certo Grande È così caro Non ci sarà mai Continuata a comprare serie Di Lupin I nostri figli Giocheranno a delle cose Sempre più obscure E strane Noi non le capiremo E sarà giusto così Io non sono d'accordo No lo so Sto scherzando Però per dire Allora Se c'è una cosa Che effettivamente Si può dire E non è In realtà Una colpa È una questione Proprio Diciamo di percorso evolutivo Della comunicazione Della specie Nulla di boomer Scemi Perché non capiscono Le cose nuove Noi saremo La prima In realtà La prima Generazione Necessariamente Scontatamente Più aperta Verso quello Che dovrebbe essere L'incomprensibile prossima Perché siamo abituati Ad aver avuto Tanti cambiamenti Così poco tempo Che bene o male Sappiamo cosa vuol dire Mentre prima Quindi ci siamo abituati A un cambiamento liquido Molto veloce La rascita di internet Equivale a ruota e fuoco A livello di cambiamento Della specie Ok Quindi noi saremo più pronti Al dire Ok Lo so che non lo capisco Proviamo Sì sì Lo dicevano Tutte le generazioni L'hanno detto Poi però Poi però No Poi però Esatto Poi però Dicono Non è vero In questo caso Probabilmente lo sarà più Quando arriva Quando arriva Tuo figlio a casa E ti dice Papà Voglio andare a farmi Le ali da pipistrello Me le fai fare E tu gli fai No non ti puoi impiantare Delle corna in testa Miyazaki Perché tuo figlio Probabilmente si chiamerà così Piccolo Miyazaki Non ti puoi impiantare Una corona di fuoco Ti prego Sarà anche l'influenza Giapponese Nel nome Certo Dai Se broli Che ha mio figlio broli Un po' troppino Forse broli Ah beh perché invece Goku ok Goku sono meglio Broli se anche brodi Puoi anche alternare In maniera più violenta Certo Certo Non lo ripetiamo qua Per ovvie ragioni Va bene Sei soddisfatto Soddisfatto Ultima cosa Allora Anzi è soddisfatto Ti saluto No 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 Velocissima Vi da un'azienda Cento milioni di dollari Me li pippo tutti Sì non è vero Vai Cosa Con cento milioni Cento milioni Cento milioni Un miliardo Sodi infiniti Potete fare un reboot Di un gioco che volete Qualsiasi Ah io so Per dire che avrei fatto I miei scena Io li do Toby Fox Per finire Altaruna Ma li ha Li ha Non ti preoccupare Gli do io Per far capire Che lo deve fare Capito Ma no ma perché lui Lui fa le sue cosine Con quattro persone Io farei tornare Sega nel mercato console Bravo Ah interessante Mi piacerebbe tanto Vedere Cosa Riuscirebbe a fare O se rifallirebbe Malissimo Sì se facesse Come i cricetti Che cadono Come le capre e i gatti Che cadono Il Dreamcast 2 Il Saturn 2 Sai cosa Mamma mia Questo è un sogno Bagnato Sega che rientra Nel mercato console E ti fa una console Ibrida E riparte la gara Nintendo La competizione Finalmente Nintendo Farebbe Quello Scatto Bellissimo Non è così Perché c'è Ma la domanda era Questi soldi Per fare cosa Qualunque cosa Nel mondo videoludico Qualunque cosa O più semplice Un reboot Del gioco Che potrebbe cambiare Secondo te Il mercato Ah boh Cambiare il mercato Cambiare il mercato È tosta Veramente investi Nell'ologrammio Nell'innesto Sottocutaneo Ma anche un titolo Che puoi reinventare Non per forza Un sistema Il fatto è che Il titolo che puoi reinventare È lì Che la mia risposta Funzionava Quando era più generica Fare il mecenate Perché tu hai Reinventa la God of War L'ha fatto Barlog Non Williams Barlog E Se tu avessi detto Ha una risposta del genere God of War Ti avessi detto Ma che cazzo dici Il reboot di God of War Ma che cosa Deve rivoluzionare È quello Io finanzierei altri capitoli Di Crash Dopo quella merda Che hanno fatto Senza senso Scelta il mercato Chissà perché Quale Quale Io sono Ma il 4 No no La specie di Butter Royale Moba Ah ok No no Il 4 è una bomba Ok perfetto Io Sono del pensiero Di Boris Memoria L'hanno fatto Perché così poi Possono dire Avete visto Crash non funziona più È inutile fare un quinto Io c'ho questa teoria qui Poi magari una cazzata Però Potrebbe anche essere Io non so dare una risposta Precisa a questa cosa Sinceramente No anche perché Il fatto è che siamo un po' disillusi Qualunque reboot Lo smerderebbero È come in Osgot Cioè Legacy of Cain Già Che bello Magari No rega Ma perché Ma io non Ma va bene così Perché dobbiamo fare reboot No Magari No vabbè Magari Aggiungi un titolo action Figo Che nessuno si aspettava Interessante La dinamica anche delle anime Non era male No era molto Surriver Era molto interessante La distorsione della mappa In base alla dimensione in cui ti trovi Sei etereo o materiale Sì sì Interessante Sì sì Va bene Io penso di mettere d'accordo molti Dicendo che Vorrei vedere un altro gioco di Mobius Quelli che hanno fatto Otherwilds Ah certo Però ci arriveranno Sì 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 Eh non è detto Non si sa No è vero che non è detto Però lo speriamo tutti Dai È il fatto che devono avere l'idea Grazie mille Grazie a te Sabago puoi salutarmi Tognek per favore Sapevo L'ho fatto anche la battuta prima Tognek Scusami Ciao Sì ma non parlasse per saluto Sennò che cazzo l'ha fatta a fa' Ma io veramente Mi fate salutare qualcuno Pure a me per favore Potesse chiedere un saluto Anche da parte mia Puoi salutarmi Vai Marco Parrulli Marco Parrulli Ciao Marco Parrulli Ci vediamo Avremo modo Avremo modo Esatto Avremo modo Mi sa di nome fake Tra l'altro Marco Parrulli Ve l'ha inventato Che carino Ora sta piangendo Marco Parrulli Che carino L'ha inventato Sei così carino Vabbè No sto scherzando Grazie tesoro Grazie mille Scusate Grazie mille No e di che Ultimo intervento Abbiamo tempo Per un ultimo intervento Chi ti segue Si scusa Si scusa No se nessuno tu E poi in chat Eh dai Ma la sbarra Te la metti nel culo Poi entrano in live Si cacano tutti addosso No grazie Buonasera signorina Scusi eh Cioè veramente Vai Dottore buonasera Ciao belli Ciao Ma è rientrato quello di prima Sento un po' di eco Scusate E' Matilda Vabbè Mi sentite Si si sentiamo Ok ok Ciao ciao a tutti Ciao Matteo Corradini Avremo modo di rifarci Comunque A voglia Avevo una domanda interessante Da fare però la schippo Bravissima Perché io Ho una missione Oggi Io devo fare un appello Ad un caro amico Di Matteo Corradini Amico Questo non lo sapevo Io sapevo che Era Giava una vita normale Aveva una vita Diciamo normale Ah una vita normale Ma Vabbè Non ritorno Ve lo dico Non farà Non è Non farà musica Però sentirete presto Parla di Pippo Vabbè Codo comunque Fai bene a godere La domanda La faccio in fretta Vai Allora Pensavo Tema Il mio al mainstream Studio comunicazione Quindi penso Automaticamente A mia madre Tipica madre Di destra Conservatrice Come tutte le madri Certo Sì 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 Vota Meloni Quindi là Sto cercando di Farglielo cambiare Ma vabbè Io penso a lei E penso che lei Per videogiochi Pensa a Fortnite Perché si informa Con televisione E Facebook Quindi per videogiochi Lei pensa a Fortnite E a FIFA O al massimo I grandi classici Degli anni 80 Di tipo Mario Tetris E quelle cazzate lì Che comunque rispetto Mario e Tetris Non sono propriamente cazzate Però capisco Cosa vuoi dire Infatti mi sono Reso conto subito Scusami Comunque Più che Capire perché Altri giochi importanti Non arrivano Da avere successo Mainstream Dato che c'è Una certa Preticenza Da parte dei media Nel parlare Di giochi Che hanno magari Una componente Più artistica Che possono essere Visti da un punto Di vista più artistico Più culturale E mi chiedevo Perché secondo voi Perché non sono Ancora morti tutti Però io sono D'accordo con te La risposta è quella Ti posso chiedere una cosa Ma perché Giustissimo Perché tu devi Quella povera donna Che ha una certa età Che vota Meloni Cioè Ma perché Tu gli devi anche Creare Soffro di più io Soffro di più io Ma tu sei nato Per soffrire Ma tu sei nato Per soffrire Devi soffrire No A parte si Vedrai avere una mamma Meloniana Lascia perde tua madre Quella povera donna Con i tuoi stupidi Videogiochi Giocaci tu E facci giocare I tuoi figli Se li ami No sto scherzando Però veramente Secondo me Non vi impunta Non tutti I media Sono per tutti Regà Veramente Non c'è Uno c'è prova Io non riesco No è già Così Per me è così Ci soffro proprio Ci soffro Mi ci incazzo Quando avrai I tuoi figli Proverai Quando mio figlio Mi dirà Ma papà I tuoi stupidi Videogiochi Non li voglio giocare Voglio andare a giocare A calcetto Con i miei amici Io lo spacco di botte Però sbaglierò Però sbaglierò Per far giocare Tuo figlio ai videogiochi Devi andare a calcetto Esatto Come ha fatto mi padre Mi padre mi ha fatto Due coglioni Così con il calcio Ho mai giocato a calcio In una vita Mai Facciamo così Giochi tre ore ai videogiochi Poi però Vai a calcetto Esatto Esatto O se no al contrario Vai un'ora di calcetto Vai un'ora di calcetto E poi ti lascio i videogiochi Solo per altre tre ore Facciamo un'ora e un'ora Eh È così Dipende Non lo so Il mio consiglio è Rispetto agli equilibri Delle altre generazioni Perché tanto non Boh Ci proverò Con un'ora non sblocco Ti stai sacrificando Ti stai sacrificando Eh sì Va bene Vabbè ragazzi Grazie mille Grazie a te Grazie a te Grazie a te Ciao 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 ragazzi Ragazzi Siamo in chiusura Abbiamo passato Due ore in Fini le domande Eh sì Siamo in chiusura Due ore dura Eh sì Che È terribile È stato bellissimo Abbiamo parlato un botto È stato bellissimo Abbiamo parlato all'infinito Due ore consecutive Bellissimo Due ore consecutive Eh ma che cazzata Che ti devo dire Se dura due ore Che ci devo fare Che la devo aumentare Ma poi avete rotto il cazzo Per mesi Eh no Il pub dell'amico Il pub dell'amico L'ho levato L'ho messo Ora rompete il cazzo Perché chiudo Ma siete assurdi Faccio come mi pare E chiudo E se voglio Chiudo anche Un'ora prima La prossima volta State attenti eh Non mi fate incazzare Sono il padrone qua Ecco No subito Per ristabilire l'ordine Come l'arancia meccanica E allora ristabilì l'ordine E mo mazzata Quell'altro Allora ragazzi Io ringrazio ovviamente Michele Ringrazio Matteo Corradini Per essere venuti qua In Toscana Si sono fatti la sbata Tra l'altro Michele in un periodo Incasinatissimo Dal trasloche eccetera Quindi ha fatto un sacrificio Ancora più grande Grazie a te Matteo ne lavora come un pazzo Quindi grazie Di essere venuto È un piacere È un onore essere stato invitato Io non so È ancora un miracolo Che la gente venga in Toscana Per fare questa cosa Il venerdì sera peraltro Quindi Quindi top Ringrazio Vabbè mica mi hai fatto Veni in Calabria No 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 Ci mancherebbe altro Ringraziamo ovviamente Tutto il pubblico Che ci ha seguito Siete stati tantissimi Abbiamo battuto il record Di spettatori addirittura Della scorsa puntata Quindi Grazie Grazie Davvero di cuore Di sostenere Radio Tomodaci Ci tenevo tantissimo E grazie a chi è intervenuto Ovviamente Prossima settimana Se riesco Verranno due ospiti Di eccezioni Che non hanno mai Vargato la soia Di questo studio Manco virtualmente E se ci riesco Ragazzi Non vedo l'ora Ovviamente I provini Alle 19 Anche la prossima settimana 21 e 45 Puntata 22 e 45 Intervenite voi Ricordo Un'altra volta Se non è Mazzella Mammazza Punto Esclamativo Pub Live Il pub Con i salvetti Il 10 giugno Prendete biglietti Perché a poco a poco Si stanno Esaurendo E i posti Sono quelli Perché poi Sennò Alla discoteca Arriva la protezione civile E ci portano tutti a casa Grazie E arrivederci Io ragazzi Vi do anche una bruttissima notizia Non giocherò stasera Perché fra 6 ore circa Ho un aereo Per Trapani Quindi ci vediamo domani Al Trapani Comics Però non temete Perché domenica Io faccio La mia live solita E poi Zeldone Si riparte Scusate ragazzi Ma devo dormire Anch'io in qualche maniera Sennò domani I ragazzi di Trapani Mi vedono sciolto Ho un aereo